Il bene immaginario è noioso, il bene reale è sempre nuovo, meraviglioso. Il male immaginario è romantico, variato, ma il male reale è tetro, monotono, desertico, noioso. Sabato abbiamo assistito alla rappresentazione in tre dimensioni del male, quando i terroristi sono planati su dei ragazzi che ballavano e li hanno uccisi, rapiti, stuprati. Prima di cominciare questa sera vorremmo solo pensare a quei ragazzi, alla loro musica e a quegli altri ragazzi, quelli che sono scesi dal cielo e che la musica non ce l'hanno, non la possono avere. Quei due mondi si sono incontrati e abbiamo assistito al male reale, monotono, desertico. La speranza è che ci saranno sempre dei ragazzi a ballare e a farci vedere il bene e non li fermerà nessuno, nessun uomo e nessun dio, neanche il più armato. E ora torniamo in Italia, torniamo dove si può ancora ballare. E' giusto per tornare nel ridicolo, il decreto anti-rave oggi dimostra ancora di più la sua cretineria. Quindi abbiamo a che fare con un'altra guerra che divide gli italiani. E come diceva Churchill però, Floris, noi confondiamo le guerre con le partite di calcio, le trattiamo nello stesso modo e qui Churchill sbagliava ma in difetto. Noi trattiamo tutto come le partite di calcio. Così domenica mattina in quel bar di Caracas che è Twitter, gli italiani parlavano di questo. Guardate, abbiamo proprio la foto. Ecco, c'è anche la foto. Ecco, al primo posto Israele e al secondo Genua-Milan. E ne parlavano nello stesso modo, con gli stessi toni scandalizzati, le stesse divisioni tra tifoserie sorde impegnate solo a urlare il proprio slogan, uguale. Per noi Genua contro Milan e Palestina contro Israele è la stessa cosa, la stessa gravità. Cioè, nessuno che arriva a capire che quel che è successo al Genua è molto più scandaloso, è una roba vergogliosa. Mamma mia, ma l'ha presa di mano, l'ha presa, non lo so, vabbè, vabbè. Però, siamo in un posto strano. Per esempio, in tutto il mondo succede una cosa, davanti ai fatti, no? Si può capire che ci sia più o meno una ragione, più o meno un torto. Da noi? No. Noi siamo speciali. Abbiamo il mare pulito, la pizza croccante, il gelato artigianale, il vino buono. Tutte cose che nel 2023 hanno anche a Belfast ormai, non è che ce l'abbiamo solo noi. Ma abbiamo una caratteristica che ci rende unici, abbiamo tutti torto. Guarda che non è facile, Floris, avere tutti torto è una peculiarità tutta nostra. Prendi, guarda, il caso di cui si parla di più, il giudice apostolico, non la giudice apostolica. La giudice adesso è diventata uno dei giudici che non hanno convalidato il fermo di alcuni migranti, non applicando una legge del governo in carica. Lei fa questa cosa, guarda, giusta o sbagliata che sia, non conta. E che sia giusta o sbagliata, cosa che dovrebbe essere dirimente, non gliene frega niente a nessuno. Perché se è sbagliata la contesti. Sì, è una cosa che si può contestare. Invece no, Salvini, per dimostrare che non è una buona giudice, pubblica un filmato in cui lei era una manifestazione contro Salvini. E qui scatta il capolavoro. Perché la giudice a questo punto passa dalla parte del torto. Un giudice non dovrebbe partecipare a una manifestazione del genere come la moglie di Cesare. Un giudice non deve solo essere imparziale, ma anche apparire imparziale. Quindi Salvini avrebbe ragione. Ma Salvini e ragione sono come l'acqua e l'olio, sono due parole che non vanno d'accordo. E infatti la domanda è stata, ma come ha fatto Salvini ad avere quel video? Perché pare non solo strano, ma anche un po' inquietante, che nel giro di poche ore lui abbia pubblicato un video di cinque anni prima. Cioè, chi l'ha fatto? Chi l'ha trovato? Chi glielo ha dato a lui? Ora, pare che gliel'abbia dato un carabiniere. E sarebbe ancora peggio. Perché ricordiamo a voi, e anche a Salvini, che lui non è il fruttivendolo sotto casa, sarebbe il vice primo ministro. Eh, lo so, lo sembra impossibile, ma è il primo ministro. E invece un vice premier non deve essere solo intelligente, deve anche apparire intelligente, come la moglie di Cesare. Quindi ha torto la giudice, perché non doveva essere là, e ha torto Salvini a pubblicare quel video. Hanno tutti torto, ma non è meraviglioso? Siamo un paese bellissimo, Floris, dove la logica non esiste. Guarda cosa sta succedendo ai campi flegrei. Ogni giorno ci sono dei terremoti, e la settimana scorsa il governo è intervenuto. Ragazzi, hanno fatto il decreto urgente. Ora, i terremoti in campagna ci sono da quando si parlava in greco. E noi abbiamo fatto la settimana scorsa il decreto urgente. E cosa prevede il decreto urgente? Ve lo facciamo vedere perché sembra incredibile. Guardatelo, guardatelo, perché abbiamo... Ecco, primo, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata. E poi, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica è un primo piano di misure per la mitigazione. Un primo piano, un primo piano. Ma come primo? Ma prima non c'era. È un'analisi della vulnerabilità delle strutture. Cioè, oggi, in un posto dove ci sono terremoti da qualche migliaio di anni, e dove tra 1982 e l'85 ci sono stati 16.000 terremoti... Nessuno di quelli che amministrano il paese si è mai messo lì e ha pensato «Paff, senti un po', ma quella scuola lì, se viene una bella botta che scrolla forte, sta su o viene giù la scuola?» Eh... Va, 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 va... Vedremo. Hai sentito questi pomodori che buoni che sono? Ma sai che sono buoni davvero? Avranno parlato d'altro, capito? Naturalmente, se poi succede il disastro, saremo tutti lì a dire «Mai più, la pagheranno, da genovesi noi ci siamo passati, ve lo diciamo già». Non pecherà un cazzo di nessuno. Tranquillo, tranquillo. Ma rimaniamo alla politica italiana, anche perché non ci sono guerre che tengano. Ogni settimana fanno la gara per regalarci proprio delle perle. Questa settimana ci ha pensato Fabio Rampelli, deputato dei Fratelli dell'Italia che si desta, così ogni tanto si desta anche lui. Ecco, lo vedete in questa foto, lo vediamo in questa rara immagine, mentre pensa a che cosa ha combinato di buono lui nella vita, ma per tempo perso. Tempo fa aveva cercato di farsi notare per aver proposto una multa di 100.000 euro a chi avesse usato termini stranieri. E lì vinse il disco di Platino per la cazzata dell'anno. Anzi, se posso, disco Platino per la cazzata dell'anno. Ma questa settimana il difensore dei confini nazionali si è ripetuto. Sì, sì, guardate cosa ha fatto. Eccolo. Rampelli sfratta il quadro di Napoleone e ci depredò. Allora, a Montecitorio c'è un quadro, oltretutto di un pittore neoclassico importante, un bel quadro che ritrae Napoleone, un quadro anche molto prezioso. Sì, ma Rampelli non lo vuole, gliene frega niente perché Napoleone ci depredò. Cosa verissima, anche se però a dire vero Napoleone depredò praticamente tutta l'Europa, solo che gli altri sono riusciti a farsi ristipire tutto e noi no. Anche perché allora eravamo stranamente divisi, dovevamo ancora farla all'Italia. Sì, sì, il livello di Rampelli politico è ridateci la gioconda, anche se nessuno ci ha mai rubato pure quello. Abbiamo un deputato che canta la mamma di Isidane. Strano, strano, non l'abbiano fatto ministro. Ma c'è tempo, eh. Ma non è l'unico che potrebbe darsi la gioia, perché il mondo è in guerra, l'Ucraina. Ora Israele, forse Taiwan, c'è da aver paura. Ma se ci invadono, se un esercito straniero ci attacca, chi ci protegge? Per esempio, nella crisi in Israele siamo fondamentalmente in mano a due persone. Uno è il rappresentante dell'Unione Europea per il Golfo Persico, che è lui. Cosa potrà mai andare storto? Dai, no? Siamo in una volta di ferro direi. Ma lui si occupa di politica. Se invece la situazione dovesse farsi calda nell'esercito italiano, ci sono uomini valorosi e tutti in un pezzo. Uomini che davanti al nemico si presentano e si presenteranno così. Ecco la vanna. No, nella normale, la scorsa settimana il generale Vannacci è apparso così su Chi, che non è la rivista ufficiale degli incursori. Un servizio fotografico in spiaggia. Ha fatto, diciamo che Vannacci è un Gianluca Vacchi che però si è fatto da solo, è solo che non aveva la famiglia all'espano. Forse sta mostrando ai nemici che anche quando è in spiaggia e in abiti civili è ancora in grado di sferrare calcivolanti. Non si capisce se con quella gamba alzata vuole emulare una mossa di Jean-Claude Van Damme. Sì, o una coreografia di Cocchi e Renato. Una cosa bella però, Floris, è che l'italianissimo, che vi rive in generale, che per lavoro da ordini a migliaia, i uomini per fare questo servizio sulla spiaggia ha obbedito lui agli ordini di un fotografo. Ce lo vediamo lì. Generale, sulla gamba? La luce è piegata, non così di più, forza con quell'acqua scalci, più forte, fai il lavoro con l'obiettivo così, fai lo sguardo sexy. Ora, si può essere d'accordo o meno con le idee del generale, per esempio mio nonno sarebbe d'accordissimo, anche se forse pure lui, forse pure nonno sarebbe rimasto un po' interdetto davanti a una risposta. Allora, la domanda era... L'intervista su chi è? E se sua figlia fosse gay? E la risposta è stata... La supporterei, ma cercherei anche di indirizzarla verso l'eterosessualità. Ma in che senso? La iscrive a danza, cosa fa? Come si fa a stradare qualcuno verso l'eterosessualità? Io mi immagino i discorsi tra padre e figlia a tavola, no? Come si chiamerà? Tu non era la figlia di Vannacci, tu non lo sappia. No, Giovanna. Giovanna, dai. Allora, Giovanna è a cena con papà, no? E allora lui torna, ciao Giovanna, com'è andata a scuola? Ah, benissimo papà. Ah, senti, e tuo compagno Alessio? Ma papà non mi piace, a me piace Chiara. Allora, guarda che Alessio è fighissimo, eh. Ma l'hai visto che è figo che è Alessio? Gran figo Alessio. Ma papà, ma io sto con Chiara. Ma papà ti supporta, eh. Se te lo chiedono, di così. Però guarda che è figo Alessio, eh. Guarda che bello il cazzo, eh. Ello è bello, bello, bello. Papà, ma se non mi piace... Ho capito, ma non è possibile, piace a tutti, scusa. E ma se ti dico che non mi piace, piace alla figlia. Io ti in strado, e a tutti piace il cazzo. Mi piace a tutti il cazzo. Pienso anche a papà. Non ce la farà mai a indirizzarla. Se ne faccio una ragione. Ma la soluzione in Israele potrebbe arrivare da un terzo personaggio. Adesso abbiamo fatto gli stupidi, ma c'è un outsider. Il sindaco di Terni, Bandecchi. Bisogna dire che nei momenti gravi della storia è utile avere sempre qualcuno che riesce a dire la cosa giusta, a fare prevalere la ragione. Ecco cosa propone il primo cittadino di Terni. Dovevamo tenere vivo Saddam Hussein, che oggi dava due legnate in bocca all'Iran. Per me, se oggi Gaza viene spianata, va bene. Purtroppo il mondo è pieno di persone perbene che si possono trasformare in animali in un attimo. Io faccio parte di questi. Nessuno mi deve rompere le palle. Nessuno. È bello quando vince la politica e non la violenza. Perché la politica... Tu io romperesti coglioni a lui. Ma no, no, la politica è partecipazione. Finalmente uno... A proposito di partecipazione, sabato 50.000 persone si sono ritrovate a camminare insieme nelle strade di Roma. Eh, lo so, succede tutti i giorni. Non esistono più i taxi, purtroppo. Ma no, 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 quello è vero. Non sono finiti in strada perché non c'erano i taxi, ma per la manifestazione della CGL. Bisogna dire che la notizia... È passata totalmente inosservata. Non li ha cagati proprio... Sabato, purtroppo, è successo di tutti. Questo non li ha cagati nessuno. Una volta la CGL riusciva a bloccare il paese. Ora il paese si blocca tranquillamente da solo. Insomma, alla manifestazione c'erano i sindacati e le opposizioni. Landini era lì per combattere le ingiustizie sociali. E Schlein era lì per combattere Conte. Quindi Schlein si è vantata di essere riuscita a portare sabato in piazza tutto il PD. Quindi tutti e sei. Sì. Segno che sono tornati uniti. O che il sabato pomeriggio, forse non sanno che cazzo fare, che è più probabile. Con tutto l'amore per Schlein, l'impressione è che proprio non buchi lo schermo, non riesca a farsi notare. Conta così poco che sabato in manifestazione non c'era nessun carabiniere a riprenderla di nascosto. E quando non c'è il carabiniere che ti riprenda, no, Flores, dai. E che cosa ha fatto sabato in piazza? Schlein ha fatto una cosa nuova. Ha cantato Bella Ciao. Che basta, ma varia un po'. Sennò sembra che sai solo quella. Schlein fa con Bella Ciao... Quello che Marco Ferradini ha fatto con Teorema. Canta sempre quella. E basta. Nel PD è inutile negarlo, manca una voce forte. E c'era, eh? C'era. Ma nessuno se ne era accorto. C'era un politico che è stato anche messo un po' da parte. Era uno calmo, tranquillo. Ma come tutti quelli tranquilli non bisognava farlo arrabbiare. Sì. Non parliamo di Liam Neeson. No, no. Ma di Pierluigi Bersani. Te lo saresti mai aspettato. Eh, proprio lui. In un'intervista del settimanale oggi chiedono a Bersani cosa ne pensi del generale Vannacci. Io pensavo rimanesse. Invece lui ha risposto così. La destra parla come al bar. Rispondiamole come al bar. Capito? La posizione di Bersani, cito testualmente, è... A me frega zero del dibattito. Che vuol dire... Mi son rotto il cazzo. Adesso metto mani in faccia e calcio il culo. E questa roba qua... E Bersani continua, eh? Dice... La libertà di opinione non c'entra un tubo. C'entra il modo in cui si discute dei bar. Di cui io sono un cultore. Hai capito, Bersani? Nel bar delle mie parti ci sono cresciuti. Che vuol dire? Eh, spacco bottiglia e ammazzo la famiglia. Sì, ma... Cioè, facciamoglielo vedere. Che se non ci si crede... Facciamoglielo vedere. Dice, loro entrano nel bar e saltano sul tavolo. Io seguo il mio istinto. Punto quelli che gridano più forte e ci parto. Capito? Bersani picca subito più grosso. Così gli altri si spaventano. E se qualcuno non è d'accordo, come risponde? Con la frase per cui è diventato famoso Bersani. Me ne frego! Dai, Gie Bersani! Spezzeremole regna la Grecia! Ma vi lasciamo con una piccola storia di quelle che raccontano il paese meglio di qualunque altro. Sì, vero. Vi ricordate che mesi fa un cittadino inglese, Ivan Dimitrov, scrisse il suo nome sul Colosseo. E il Pirla, tra l'altro, si fece anche un video come usa tantissimo adesso. La cosa meravigliosa è che si scusò dicendo che non sapeva che il Colosseo fosse così antico. Eh, ma se lui pensava fosse un'attrazione moderna, un tagadà in pietra, capito? Sì, lui aspettava che cominciasse a muoversi, capito? Comunque, non solo si è scusato, però, devo dire, ha chiesto anche di quantificare il danno. Quant'è? Eh, lo hanno quantificato. È intorno ai 1000 euro. E lui ha detto, ok, pago. Oh, è qui. A chi pago? Aspetta, il nostro paese diventa una favola. Sono cinque mesi che questo poveretto cerca di pagare lo Stato e non gli diamo l'Iban. Guardate, Colosseo sfregiato, turista vuole risarcire, nessuno gli comunica l'Iban. Ma non è meraviglioso? Questi sono tre mesi che vuole pagare e noi non lo facciamo pagare. Però attenzione, perché arrivato, ho letto la notizia, adesso dal parco archeologico, Adesso fa vedere, Alessandro, dal parco archeologico fanno sapere che la dirigente dell'ufficio bilancio e pagamenti del ministero si attiverà, quindi al futuro, per risolvere questo impasse. Tranquilli, ragazzi, si attivano. Però anche voi, con calma. Hai sentito sti pomodori che buoni che sono? Ragazzi, ma ci abbiamo dei pomodori in sto paese che sono pazzesco. Ciao, a dopo. Luca e Paolo tornano dopo, diamo il benvenuto a Corrado Augian. Buonasera. Volto storico della TV, conduce su Rai 3 la gioia della musica in libreria con Paolo, l'uomo che inventò il cristianesimo. Senta, Corrado Augian, abbiamo molti argomenti da mettere in fila, stasera ci aiuterà forse a trovare un filo su tutto. Cominciamo naturalmente a ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Perché dobbiamo preoccuparci? Beh, dobbiamo preoccuparci per una quantità di ragioni nell'ordine, una ragione umanitaria. Quello che a mano a mano si scopre dell'orrore dei macellai di Hamas nei kibbutz, che sono arrivati a decapitare dei bambini, è una cosa che non ha precedenti e non ha neanche parole per commentarle. Lo possiamo commentare e temere dal punto di vista degli equilibri globali, che sono stati, dopo l'Ucraina, sono stati ancora una volta turbati. E siccome noi sappiamo che ogni volta che si turba un equilibrio c'è qualcuno che cerca di approfittarne, io mi chiedo quando questa prima ondata dell'orrore si sarà attenuata, chi cercherà di approfittare di questa situazione? Ci dobbiamo dolere perché... Guardi, io sono sionista appassionato, però devo dire che Israele ha giocato col fuoco. Israele è andato avanti per 40 settimane, 40 settimane, giocando alla democrazia, cioè con imponenti manifestazioni popolari contro la riforma della giustizia voluta da Netanyahu. Pessima riforma della giustizia, giuste le proteste, ma hanno dimenticato nel protestare la situazione delicatissima, fragile nella quale Israele si trova in quella zona del mondo. E di questo i macellai di Hamas hanno approfittato. Eccetera, eccetera. Senta Augas, adesso ci saranno molte riflessioni da più punti di vista anche sulle cause di quello che è successo, sulle ragioni profonde. È molto probabile, ora vedremo stasera in studio se succederà anche da noi, che si tornerà a dividersi tra quelli che vengono considerati gli amici di Hamas e quelli che vengono considerati gli amici del mondo libero. Quanto è giusta una schematizzazione del genere e quanto può danneggiarci? Una schematizzazione del genere, come l'ha definita giustamente lei, è inevitabile. Guardi, io sono abbastanza anziano da ricordare quando questo è cominciato. Questa divisione è cominciata dopo la guerra dei sei giorni del 1967. E non nascondo che quella guerra ha rappresentato un mutamento profondo. La fulminea vittoria di Israele contro gli stati arabi coalizzati suscitò da una parte ammirazione profonda, dall'altra una profonda inquietudine. Questa cosa è andata avanti nel 1973 con la guerra detta di Yom Kippur, di cui la replica di questi giorni celebra, per così dire, il cinquantenario. Anche lì si è rafforzata questa divisione. Io ricordo una manifestazione della CGL e dei partiti di sinistra nella quale si arrivò a mettere una bar a Roma, a mettere una bara sui gradini della sinagoga. Cioè a questo. E oggi abbiamo gli studenti che plaudono ad Hamas, non ai palestinesi che hanno diritto al loro Stato. Sia chiaro, su questo io sono fermo, ma ad Hamas, che sono dei macellai, ripeto. Senta, Algias. Allora, l'altro rischio. L'opinione pubblica che si schiera, magari sulla base della schematizzazione che dicevamo, si schiera e si appassiona, e in qualche modo dimentica le passioni più recenti. Può essere che da questa nuova situazione si arrivi a un contesto che tenda a dimenticare la guerra in Ucraina? Può essere che sia Zelensky alla fine a passare di moda? È una domanda difficile. È chiaro che questa situazione in Israele, non dico che si normalizzerà, perché tutte le previsioni sono che durerà a lungo, ma l'impatto emotivo tragico di queste ore a poco a poco si attenuerà. E poi dipende da quello che succederà sul fronte ucraino, cioè dipende da quanto Vladimir Putin vorrà approfittare di questa situazione per rilanciare la sua azione militare. Io questo non lo so. Forse in queste ore non lo sa neanche Putin. Tutti stanno, guardi, Floris, stanno tutti calcolando le conseguenze delle azioni possibili. Le dico una cosa. Israele poteva entrare, l'esercito israeliano poteva entrare a Gaza ieri sera. Non l'ha fatto perché stanno calcolando che cosa può succedere dopo l'ingresso. E' un calcolo complicatissimo. La stessa cosa starà facendo Putin. Come posso sfruttare questa situazione? Sono cose e risposte che arriveranno non subito. Anche noi cercheremo di calcolare delle conseguenze, delle conseguenze che saranno anche immediate, ad esempio, sul fronte dell'economia. Ora noi ci poniamo con lei la questione se siamo, diciamo, un paese e abbiamo una classe dirigente adeguata a affrontare questo momento, ma non dal punto di vista della guerra. Le faccio vedere classifica dello spread e dei rendimenti. In che momento capita questa guerra? Capita che l'Italia è in... Ecco, vediamo. Lo spread oggi ha superato 200, di nuovo ora si è fermata a 196 e siamo poco sopra la Grecia. La Spagna a 111, il Portogallo a 70, Francia a 56, e Olanda a 36. Siamo in un momento molto complicato della nostra economia. Siamo in attesa del giudizio delle agenzie di rating che potrebbe avere un peso molto forte. Siamo presentando una manovra che dà una crescita basata su dei calcoli molto flebili che già questa fiammata di guerra in Medio Oriente costringe a rivedere. Pagheremo sul fronte del gas e del prezzo. Allora, quanto siamo pronti e come si sta mostrando il governo davanti a questa emergenza? Guardi, Floris, devo dire male. Male. Perché quella tabella è terribile. Quella tabella fa vedere che i buoni del tesoro italiani sono quelli che rendono di più, cioè che costano di più, costano più di quelli della Grecia, che noi davamo qualche anno fa per perduta e a scendere tutti gli altri fino a quelli dell'Olanda al 3%. Questa è una cosa. La seconda cosa è che abbiamo, abbiamo impiantato, avevamo, avevano impiantato una manovra di bilancio che l'archeggiava e che a poco a poco si è dovuta restringere, perché si è capito che i soldi non ci sono. Non ci sono per attività fondamentali, tra le quali, caro Floris, io metto al primo luogo la sanità e la scuola. La sanità è debole. È al collasso. La scuola è in condizioni, soprattutto in certe zone del paese, è in condizioni molto brutte. Quella è la nostra salute, la salute dei tutti i cittadini e il nostro futuro. E mentre queste cose accadono, si progettano, secondo me solo in teoria, ma basta quello a dire l'incoscienza, si progetta un'opera faraonica, come il ponte sullo stretto, ma come si fa a non avere la consapevolezza? Quella sarà pure un'opera necessaria. Non lo metto in dubbio. Assicurateci tutte le protezioni ambientali, criminali e quant'altro. Ma non adesso. Tirarle in basso in questo momento. Ecco, se le domando, qual è allora il giudizio, o almeno elementi, che in lei le fanno avere un giudizio di fondo su questa classe dirigente? Ci può dare dei flash di che cosa la spinge a pensare all'adeguatezza o meno di questa classe dirigente? Guardi, sarò sincero. Comincio dalla Presidente del Consiglio, la quale è una donna che ha avuto purtroppo l'educazione politica, intendo, l'educazione politica che ha avuto, ma che è molto intelligente, molto astuta e si è resa conto rapidamente del gioco in cui sta giocando una volta diventata Presidente del Consiglio di un grande Paese europeo. Purtroppo lei sa esattamente come stanno le cose e sa esattamente quale dovrebbe essere la scelta da fare. solo che non la può fare perché è divisa dalle forze che le tirano la giacca, l'abito, il tailleur verso il suo passato minacciando implicitamente se no non ti votiamo più e quelle forze centrali moderate che magari voterebbero volentieri una Giorgia Meloni diventata una leader conservatrice di stampo europeo. Lei sta a cavallo di questo di questo bivio di questa scelta e non riesce a farla. Quando lei mi chiede dia un giudizio ecco il primo giudizio che do è questo poi chiaramente ci sono dei ministri che non sono adeguati al compito che devono svolgere e insomma è un governo tutto sommato non all'altezza del momento drammatico. Allora prendiamo il momento drammatico la reazione la reazione all'attacco di Hamas là come si sono mostrati? Si sono mostrati guardi si sono mostrati hanno fatto bene diciamo ma veda ieri sera il presidente del senato la russa è andato da Vespa e ha fatto un inno all'ebraismo io che sono vicino a Israele gli direi calma signor presidente calma lei non si dimentichi che solo pochi mesi fa confondeva le SS con una banda di musicanti quindi questo entusiasmo dia una misura a questo entusiasmo ecco non 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 insomma un po' di eleganza dai segnali drammatici importanti politicamente importanti come quello che ha detto a quelli più più di superficie il vicepresidente è la camera che fa portare via un quadro di Napoleone perché Giorgia Meloni discute con Macron cosa ne pensi? guardi Appiani che è l'autore di quel quadro famosissimo tra l'altro stata per tutto in tutte le biografie di Napoleone è un grande pittore del periodo neoclassico italiano quel capriccio di portare via Napoleone perché è vero che Napoleone con il suo agente in Italia che si chiamava Vivant Denon ha fatto portare via dall'Italia molte una quantità di opere d'arte in parte restituite in parte no però santo cielo Napoleone ha portato in Italia anche le campane della libertà il nostro risorgimento di cui i rappresentanti di Fratelli d'Italia dovrebbero essere orgogliosi quanto lo sono io il nostro risorgimento è cominciato con la campagna di Napoleone questo vorrei che si ricordasse quindi anche lì un po' di alleganza allora io torno alla sua immagine di Giorgia Meloni al bivio in fondo è un bivio tra la ricerca del consenso e il garantire l'interesse dello Stato è un bivio in cui si spenderà probabilmente anche nei giorni prossimi tra i rapporti con le altre nazioni che sta cercando sul fronte immigrazione i rapporti con le altre nazioni che sarà costretta a cercare sul fronte economico tra consenso e interesse dello Stato riesce a stare in piedi Giorgia Meloni Lei fa delle domande bellissime micidiali però nella risposta perché ovviamente la prima risposta io non lo so però lei ha suscitato un problema che invece esiste ed è immenso e non riguarda solo Giorgia Meloni riguarda ogni uomo che faccia politica io le faccio un esempio 40 anni fa il cancelliere tedesco Helmut Kohl promosse nel 1990 cioè un anno dopo la caduta del muro promosse la riunificazione delle due Germanie sapendo benissimo che sarebbe stata un'operazione costosissima dal punto di vista economico finanziario proprio di soldi perché il dislivello economico tra la parte occidentale e la DDR era enorme e dal punto di vista elettorale anche costosissimo eppure lo fece perché sapeva che avrebbe pagato un prezzo due prezzi in marchi come c'erano allora e in consenso politico però quello era il futuro della Germania sono scelte drammatiche sono le scelte che distinguono l'uomo di stato dal politicante il tema dei migranti Corrado Augias il tema dei migranti adesso ha anche la conseguenza dello scontro con la magistratura con i magistrati che hanno rilasciato i tunisini che erano stati sulla base dei decreti del governo che erano stati firmati diventa un tema che forse racchiude tutte le considerazioni che abbiamo fatto finora è ancora una volta un nuovo episodio che arricchisce la collana dei rapporti tra la magistratura e la politica la mia idea è che la giudice che se uno fa se io avessi fatto il magistrato non sarei mai andato ad una manifestazione politica di nessun colore ad una manifestazione pubblica perché il magistrato deve vivere sa indossando quella toga e acquisendo quel potere sa di dover limitare i suoi diritti di cittadino lei mi dirà ma come Augias sono diritti costituzionali sì sono diritti costituzionali ma i magistrati i militari tutti quelli che sono al servizio della collettività sanno che facendo quel lavoro devono limitare i propri diritti di espressione e questo avrebbe dovuto fare quella giudice ciò detto è chiaro che andare a scrutinare con dei filmati di dubbia acquisizione la vita privata 5 anni fa di una magistrata è un'operazione che appare sordida io ho una io ho una distinzione da fare noi in Italia nel nostro sistema processuale noi abbiamo il fatto che i magistrati devono motivare le loro sentenze questo non accade per esempio negli Stati Uniti negli Stati Uniti la giuria esce fuori dalla Camera di Consiglio e il Presidente le chiede avete deliberato sì vostro onore che avete deciso colpevole non colpevole fine del discorso noi no nel nostro diritto processuale il magistrato deve motivare la sua decisione e lì lo si giudica grazie Corrado Augas e ci hanno ci hanno raggiunto buonasera Augas ci hanno raggiunto molti ospiti ve li presenterò mano a mano Alessandro Di Battista come ha reagito il nostro governo all'invasione di Hamas beh ha reagito esattamente come ha reagito quando c'è stata l'invasione di Mosca dell'Ucraina facendo propaganda pro Israele mostrando una bandiera israeliana da Palazzo Chigi secondo me questo non serve ad affrontare un problema io credo qui magari abbiamo delle idee diverse io ho sempre sostenuto la causa palestinese ma qua il punto non è di dividersi io penso è compito di un Presidente del Consiglio è compito di chi fa il mestiere del giornalista o del politico sia tentare di dare delle soluzioni guardando al futuro se iniziamo a guardare il passato possiamo discutere ore io ho le risoluzioni violate da parte di Israele o i rapporti di Amnesty International di Save the Children che attestano uno stato di apartheid commesso dal governo israeliano in Palestina se vogliamo discutiamo di questo non so quanto sia utile oggi con una azione terroristica inaccettabile compiuta dall'organizzazione terroristica di Hamas e da una rappresaglia che viola qualsiasi diritto umano che è un crimine contro l'umanità su Gaza non penso sia utile credo che sarebbe utile che un presidente del consiglio per di più un sovranista che pensa o dice di pensare l'interesse collettivo in un momento in cui l'Europa non esiste non esiste da 30 anni Giovanni ci dica qualcosa rispetto al futuro oggi per me non ci sarà mai pace se non viene garantito allo stato di Palestina un'esistenza sovrane legittimata questo governo ha reagito a testa alta e senza alcuna ambiguità noi stiamo con lo stato di Israele punto e oggi non è tempo di distinguere non è tempo di tirar fuori le risoluzioni oggi è tempo di fronte a un attentato terroristico che non è uguale sia per le dimensioni sia per l'efferatezza hanno decapitato dei bambini di fronte a questa tragedia di oggi è solo il momento di dire noi stiamo con Israele e per questo abbiamo messo la bandiera di Israele ora allarghiamo il dibattito concretamente domani che cosa pensate di fare come governo italiano di supportare dei raid supportare ancora una volta una ghettizzazione di Gaza che è un lager una prigione a cielo aperto ma davvero noi pensiamo che l'unico modo per affrontare il terrorismo islamico evitare la radicalizzazione sia buttare ancora più bombe io ricordo che quello che sostiene oggi deputato Cattano in Forza Italia è la stessa identica cosa che tutti i deputati di centrodestra hanno sostenuto quando vi sono stati attacchi terroristici prima bombardamenti israeliani su Gaza e la risposta è sempre stata questa dobbiamo distruggere il terrorismo islamico andiamo in Afghanistan perché va distrutto il potere dei talebani poi con i talebani ci sono messi d'accordo il mondo oggi è più insicuro io resto colpito da questo filosofeggiare oggi è il momento diceva Cattano di essere schierati da una parte dalla parte dell'aggredito non si può completare o fare l'occhietto all'aggressore verrà il momento della conciliazione una cosa Giovanni voglio aggiungere io resto molto colpito quando vedo interviste con giovani ragazzi e ragazze pronti ad andare in Israele a servire la propria patria noi dobbiamo prendere lezione da questo amor di patria da questa passione civile degli israeliani Anna Falcone i crimini contro l'umanità sono da entrambe le parti e purtroppo sono da entrambe le parti da molti decenni e quello che ci fa oggi orrore e su questo non c'è nessuna ambiguità ci fa orrore e potrebbe farci ancora più orrore se innalzando bandiere schierandosi invece che trovare soluzioni dovessimo vederlo ripetuto dall'altra parte ci fa così orrore io lo dico da giurista perché non sono iscritta a nessun partito si chiama guerra infatti le ho detto che non sono neanche crimini questi sono crimini contro l'umanità è qualcosa in più rispetto ai crimini di guerra lo insegniamo nelle università ma non lo ascoltiamo purtroppo dalle istituzioni quello che vediamo purtroppo oggi è invece una politica che innalza bandiere non cerca soluzioni è un sostanziale fallimento non solo del ruolo dell'ONU e noi siamo membri del ruolo ma anche un enorme fallimento del ruolo dell'Unione Europea perché in Europa di nazionalismi e di sovranismi alimentare e talenza io chiedo professoressa Falcone chi oggi ha la faccia l'autorevolezza e l'autorità di dire a Israele porgi l'altra guancia ma chi l'ha detto nessuno ce l'ha nessuno ce l'ha nessuno osa dirlo guardi mi scusi ma la sua risposta serve proprio a dimostrare come qui non si vuole affrontare il problema il compito della politica non è ribadisco dire io sto con tizi o sto con cagli noi stiamo con chiunque venga attaccato discusi ma qui la vittima sono le popolazioni civili che stanno subendo tutti e se ce ne saranno dall'altra parte a lei piaceranno di più o di meno a me fanno orrore da entrambi le parti e chiunque chiunque con azioni o omissioni con scelte politiche divertite alimenti l'escalation si renderà responsabile degli altri bambini che saranno dall'altra parte non uno di più non uno di più filosofia fatti i morti sono fatti non sono filosofia la sua è filosofia ma come si fa oggi aspettate sentite l'Isabetta Piccolotti che vi ha ascoltato vede Floris innanzitutto siamo tutti scioccati dalle immagini che abbiamo visto e la condanna è stata unanime qui non ci si divide fra chi condanna l'atto terroristico e chi non lo condanna perché non c'è nessuno che non lo condanna qui ci si divide tra coloro che sostengono che la soluzione del conflitto israelo-palestinese è militare e quindi che l'unica soluzione è radere al suolo la Palestina e chi invece sostiene come noi che la soluzione di quel conflitto è politica e quindi serve un dialogo diplomatico per la la de-escalation la liberazione degli ostati l'apertura di un tavolo di confronto e il riconoscimento di due stati naturalmente è un percorso lungo molto faticoso che possano vivere uno accanto all'altro due popoli in una terra Dragoni e questo è un'antorio di Bella che ci aiuta a vedere le cose a me sinceramente colpisce di quanta cattiva stampa goda Israele anche nel nostro paese in generale del mondo occidentale cioè se neanche di fronte a 900 morti inermi riusciamo a dire un momento arriverà il tempo delle analisi e arriverà il tempo della pace ma Israele non può fare altrimenti cos'altro potrebbe fare Israele i 900 morti sono un orrore io le voglio fare una domanda a Gaza in questo momento ci sono 900.000 bambini sono innocenti non è colpa loro la situazione in cui si trovano sono senza acqua senza corrente senza cibo sotto le bombe impossibilità di evacuare devono morire devono morire sono 900.000 mi risponda però confondere Amas con la questione palestinese e come confondere mi perdoni la merda con la nutella non c'entra nulla ma io infatti non la confondo le sto chiedendo di non confonderla assolutamente nulla le sto dicendo siccome c'è un'organizzazione e dovrebbero essere le sto chiedendo e non lo fanno e sto dicendo di non confonderla i 900.000 bambini non sono di Amas eppure sono sotto le bombe sono senza però i genitori bambini hanno applaudito l'altra sera 900.000 bambini allora attenzione perché ora di tutto questo parleremo durante naturalmente tutta la nostra serata Antonio Rebella se ci vuoi dare un parere su quello che sta succedendo e poi mi aiuti a introdurre il concetto di rating intanto io vedo sempre con gli occhi americani perché Biden ha parlato poco fa ha fatto un discorso molto secondo me forte a difesa di Israele Blinken sarà registrato fra poche ore domani sarà fisicamente in Israele per sostenerlo nella sua battaglia per l'esistenza ha detto il male puro una cosa del genere il male puro e poi ha detto una frase che mi ha colpito gli stati che pensano di approfittare di questa situazione pensino bene a farlo se riferive a chi all'Iran e alla Russia che gongola in queste ore perché sa che le armi che dovranno affluire a Israele probabilmente verranno tolte all'Ucraina siamo di fronte a una crisi al bivio il bene il male si devono dividere le risorse diciamo cartello di quando arriverà il giudizio del rating sull'Italia perché ora parleremo di tutto ma bisogna anche introdurre i concetti economici guardiamo stanno per arrivare 20 ottobre standard and pulse 10 novembre Fitch 17 novembre Moody's potrebbero farci male potrebbero dire che questa manovra che già ha una prima analisi confrontandola con i dati che vengono dagli altri centri studi non quello del governo ha qualche numero ballerino potrebbero dire beh noi qua prima di prestarvi i soldi ci dovete pagare molto di più oppure non vi possiamo proprio più comprare i titoli di Stato allora se si sviluppasse questa situazione che cosa succederebbe un flash poi vi faccio vedere Giorgia Meloni io non so cosa succederebbe spero non succeda mi ricordo qualche anno fa siamo anziani io un po' di più eravamo in studio insieme con Gianfranco Fini e arrivò a un giudizio durissimo di Fitch e Fini se ti ricordi a Ballarò a Ballarò polimizzò ma che stificio ma che cavolo vogliono anche sono ecco questo non dovremmo farlo cosa aveva detto in tempi più recenti Giorgia Meloni del rating lo facciamo vedere Elisabetta Piccolotti non ci interessa il servizio delle agenzie di rating sono società private che agiscono per conto dei loro investitori di quello che ha da dire Moody potrebbe fregare di meno gli ultimi che ci hanno declassato questi di Moody forse bisogna ricordare a chi ci guarda che hanno patteggiato negli Stati Uniti 900 milioni di euro per aver taroccato i rating sui mutui che hanno causato la crisi del 2018 quindi che io mi debba fare spiegare come va la mia economia da quelli che mi hanno passato la malattia proprio o no Cosa succederebbe se lo dicesse ora che governa il nostro paese Piccolotti? Succederebbe qualcosa di drammatico perché purtroppo noi siamo alle prese con una finanziaria molto difficile da chiudere il governo non ha le risorse e c'è una grande instabilità dei mercati ora le agenzie di rating non sono la Bibbia il problema è che orientano le scelte degli altri che ci credono gli altri esatto che ci credono gli altri sarebbe meglio se avessero meno potere ma ce l'hanno e quindi sta succedendo che il nostro debito costa sempre di più ed erode la quantità di risorse che abbiamo a disposizione per fare politiche di investimento e politiche sociali e ora che ce l'abbiamo allora il problema il problema è anche che per alcune misure come la sanità non sono state trovate coperture sulla scuola non ci sono coperture ci sono tanti temi scoperti a partire dall'aumento del contratto dei dipendenti pubblici e non sono state trovate coperture perché non si è andata a cercare i soldi dove ci sono che non è solo la partita del debito è anche la partita della redistribuzione interna c'è un gruppo di miliardari che ha chiesto recentemente ai propri paesi tra l'altro si chiamano patrioti si sono dati questo nome di provare a mettere delle tasse sui patrimoni miliardari per trovare le coperture stabili per fare redistribuzione se non è originale ma è necessario non sarà originale ma è necessario perché quando quando milioni e milioni di italiani che non possono curarsi si verranno a battere alla porta del governo e voi gli direte che non potete dare risposte perché i soldi non ci sono dovrete spiegare che la verità è che avete lasciato miliardi in mano alle banche alle società europee perché ricordiamoci che sono giornate particolari guardate cosa è successo in due giorni dal giorno dell'attacco di Israele c'è stata in contemporanea anche ci sono stati gli episodi in Finlandia che hanno comunque fatto saltare i prezzi guardate gas e petrolio cosa è successo arriverà prima o poi il cartello più 15% risalito a 50 euro al megawattora sul mercato internazionale 4% il petrolio torna ridosso dei 90 dollari al barile in 24 ore cattare intanto voglio dire quello che non succederà da noi che è quello che appena ha detto l'onorevole Piccolotti perché se la sinistra vorrebbe aumentare le tasse mettere una patrimoniale magari anche la tasse di successione noi questo sicuramente nella finanziaria non la farà il problema non vi riguarda il problema è la classe media per passare una casetta ai propri figli e voi vogliete toglierle pure quelle senza fondi affitti senza trasporto pubblico perché voi dovete garantire gli interessi con questa ulteriore crisi si muovono diciamo anche i prezzi dell'energia è ovvio noi infatti politicamente cosa abbiamo detto oggi con Tajani che va circoscritta il più possibile la crisi noi stiamo lavorando perché non si infetti ulteriormente non ci sia un'esplosione dell'inflazione ulteriore stiamo lavorando per essere credibili sui mercati internazionali cosa succede quando arriva la guerra e ci sono le ragioni ideali guardate quando abbiamo smesso di prendere il gas dalla Russia abbiamo aperto altri mercati da chi ci siamo rivolti arriverà il cartello ci siamo rivolti all'Algeria che adesso appoggia Hamas ci siamo rivolti all'Azebagian che fa pulizia etnica contro gli armeni Norvegia e Olanda poveretti verissimo io tra l'altro lo dico da mesi e tra l'altro andando contro l'interesse collettivo europeo la Germania è in recessione quest'anno proprio per la strategia folle sull'energia adottata dall'Unione Europea avallata dal governo sovranista della Meloni e dei rappresentanti e c'è Cacciari pochi secondi arriva il professor Cacciari Laura Gobetti aggiornamento si si continua a combattere Giovanni a Gaza un raid israeliano 11 morti 23 feriti ma si combatta anche nel territorio israeliano intanto ad Ashkelon tre palestinesi uccisi ma anche scontri a Gerusalemme due palestinesi uccisi palestinesi che hanno lanciato fuochi d'artificio contro la polizia israeliana dunque ci sono anche razzi che arrivano dalla Siria su Israele che sta rispondendo al fuoco andando a combattere le postazioni appunto dalla Siria benvenuto benvenuto Massimo Cacciari buonasera professore ci aiuti un po' a capire che lettura dà dei fatti di Israele è una tragedia tra Israele e palestinesi che dura da decenni praticamente da dalla fine della seconda guerra mondiale e non trovo una soluzione e una soluzione può essere trovata soltanto sul filo di alcune risoluzioni molto importanti che l'ONU abbia preso e che sono rimaste completamente disattese occorre da una parte lo so che non è semplice è tutt'altro che semplice riconoscere il diritto del popolo palestinese ad uno Stato che sia uno Stato e non un ghetto e dall'altra parte un riconoscimento pieno senza se e senza ma dello Stato di Israele ma come si farà le decisioni fondamentali le decisioni globali possono essere assunte soltanto attraverso l'accordo il patto tra potenze globali è sempre stato così e oggi lo è ancora ecco lei però professore auspica un approccio razionale a questa vicenda che sembra quanto di più lontano in questo momento veda Floris ormai non si ragiona più da nessuna parte perché ragionare secondo la mentalità secondo la razionalità occidentale che è la sola di cui me ne intendo un po' ragionare vuol dire sempre risalire alle cause non si sa nulla fin tanto che non si sanno le cause di un fenomeno e quindi di fronte ad ogni guerra bisognerebbe sempre saper risalire alle cause comprendere le ragioni nei limiti del possibile con la massima obiettività certo che non saremmo mai del tutto obiettivi per vari motivi non è realistico pensare che si possa tenere appunto un popolo nelle condizioni che attualmente versa quello palestinese e non è realistico pensare di poter abbattere lo Stato di Israele quindi da parte dei contendenti o vi è un principio di realtà che subentra che si impone oppure saranno periodiche tragedie come quelle che viviamo da anni le guerre hanno una storia e se noi vogliamo conoscerne le cause e quindi cercare di rimuoverle occorre sapere questa storia non puoi semplicemente andare avanti a occasioni oggi è successo oggi c'è l'11 settembre basta e prima non c'è niente oggi c'è l'invasione russa e prima non c'è niente oggi c'è Hamas che invade Israele e prima non c'è niente e non possiamo ragionare non è un ragionamento è un infattilismo però professore lei dice ragioniamo sulle cause ma ragionare sulle cause in questo caso può voler dire anche approfondire analizzare le responsabilità di Israele nei confronti della popolazione palestinese e questo porta spesso nella cultura anche occidentale a un otomatismo sei amico di Hamas sei contro Israele ma questa è la mentalità succube nostra perché negli Stati Uniti ad esempio è pieno di intellettuali è pieno di politologi che criticano la politica americana in Ucraina senza che ciò susciti il minimo scandalo questa posizione succube è propria dei provinciali è propria dei poveretti è propria di quelli che devono stare sempre con un padrone per poter sopravvivere ma scherziamo e in Israele e in Israele non ci sono forse forze politiche in Israele che sono apposta a Netanyahu che hanno fatto una battaglia strenua contro la politica di Netanyahu cosa sono? sono grandi democrazia sia gli Stati Uniti che Israele nella quale ci sono c'è chi contende radicalmente con le politiche diciamo dei governi che si vanno succedendo e soprattutto oggi nei confronti della politica di Biden e nei confronti della politica di Netanyahu e questo non suscita alcun scandalo ha anche questo modo di pensare un effetto boomerang in qualche modo perché nell'opinione pubblica poi su realtà complesse come quella della guerra è volatile in qualche misura è volubile ci dimenticheremo della guerra in Ucraina? C'è anche questo rischio ovviamente c'è anche il rischio perché in Ucraina è una situazione che va risolta chiaramente perché non possiamo assistere alla tragedia e al massacro di quel popolo è chiaro che bisogna sostenerlo è chiaro che bisogna giungere a un punto in cui lì da parte russa venga riconosciuto chiamiamolo come vogliamo l'errore quello che volete ma venga riconosciuto insomma la colpevolezza lì c'è una responsabilità precisa tu non puoi invadere un altro paese ma anche lì veda manca principio di realtà perché da una parte c'hai una Russia che non ha ancora come dire metabolizzato il fatto che è una potenza che è stata sconfitta da una guerra fredda finché si vuole ma guerra come giustamente si chiama guerra fredda è stata sconfitta e quindi deve ricollocarsi in un quadro di equilibri internazionali che non può più essere quello che aveva all'epoca dell'Unione Sovietica e della guerra fredda quindi un principio di realtà anche lì e dall'altra parte altrettanto un principio di realtà insomma raccontami cosa vuoi far esplodere la federazione russa stai attento perché se vuoi far esplodere la federazione russa rischi appunto un conflitto mondiale oppure vuoi semplicemente come giusto far capire alla Russia che non può comportarsi come quando invadeva Budapest e invadeva Praga anche qui sono principi di realtà e le politiche internazionali dovrebbero e responsabili dovrebbero esplicitarle le loro linee la mia linea realistica è che la Russia non può più permettersi di invadere Praga o di fare come a Budapest o ancora la prepotente come a Varsavia non può più fine l'hai capita Russia bene e quindi io l'Ucraina la Lettonia l'Estonia fanno quello che vogliono vogliono i missili e non c'è niente da fare te la devi mangiare Russia principio di realtà dall'altra parte dall'altra parte tu occidente cosa vuoi far esplodere la Russia attenzione è pericolosetto perché non è più la potenza Unione Sovietica o anche ZAR però è sempre la Russia vero la Russia che va dai confini dell'Ucraina dalla terra di confine fino al Pacifico attenta è un problemino e allora principio di realtà in ogni se vogliamo che la politica si svolga con armi politiche diplomatiche eccetera bisogna muoversi sulla base di un grande realismo altrimenti rischi le tragedie perenni continue le guerre continue con la speranza che poi non deflagrino in un conflitto mondiale di nuovo e secondo lei questo approccio razionale questo principio di realtà dovrebbe essere portato dai grandi sui piccoli ma certo perché i piccoli sono sempre necessariamente a rimorchio per forza per ragioni fisiche io non ho la macchina che vada io devo stare nella macchina di quello che la possiede non ce l'ho io c'è poco da fare è sempre stato così nella storia che discorso è sempre stato così grazie professor Cacciari grazie a lei ci ha raggiunto Stefano Bonaccini presidente del PD e della regione Emilia Romagna sempre con Alessandro Di Battista Mauro Mazza allora lei che ne dice Di Battista esiste un pensiero unico che copre tutte le guerre in Italia ma il pensiero unico esiste ed è più che altro politico istituzionale non penso che rappresenti la pubblica opinione come non rappresentava la pubblica opinione il pensiero unico rispetto alla guerra in Ucraina qual è il pensiero unico quando io vedo la bandiera di Israele sul palazzo Chigi o sulla porta di Brandeburgo o sulla torre Eiffel io penso che siano come dire manifestazioni del tutto inutili la solidarietà è evidente che sia necessaria presentarla per le vittime di un massacro ma io credo che i politici non dovrebbero trasformarsi in influencer dovrebbero presentare delle soluzioni sa Floris cosa a me oggi mi indigna che le parole più sensate anche al costo di sembrare per l'ennesima volta putiniano e vi assicuro che non lo sono le parole più sensate rispetto al conflitto israele o palestinese che si è oggi di nuovo trasformato in guerra e che va avanti da 70 anni le ha dette il ministro degli esteri russo Lavrov e le ha dette Putin dicendo è urgente il riconoscimento dello stato di Palestina l'Italia non riconosce lo stato di Palestina perché? perché non vuole inimicarsi come sempre gli Stati Uniti d'America e Israele fino a che non si riconoscerà uno stato ma come si pretende di risolvere un conflitto le cui cause sono vecchie di 75 anni chiedo scusa prima vivere e poi filosofare questo è il momento dello sconvolto siamo tutti sconvolti da quanto è accaduto questo attacco allora vi faccio una domanda di Battista chi aveva l'autorevolezza di dire all'America per l'Arbu dicembre 41 fermatevi non reagite chi aveva la forza di dire dopo le torri di Germania 2001 all'America fermi non fate gli attacchi contro i terroristi nessuno e chi c'era oggi di dire ad Israele fermi la pace dopo quello che è successo anche no anche no io credo che oggi mettere a ferrafuoco Gaza tra l'altro nessun crimine terroristico commesso dal gruppo terroristico di Hamas giustifica e un bombardamento in una scatola di sardine dove vi è la densità abitativa il doppio dei quartieri spagnoli di Napoli quindi immaginiamo che cosa significa buttare una bomba lì nulla nessun atto terroristico da condannare il più terribile giustifica un crimine contro l'umanità ditemi voi come è possibile vivere all'interno di 360 km quadrati meno della metà del comune di Roma non poter uscire e non poter scappare dalle bombe ma anche i palestinesi hanno dei diritti ma uno mazza aspettate perché il punto non è tanto cosa pensate ma dice di Battista rivediamo la foto di Palazzo Chigi e la domanda è per lei e per Bonaccini e non è così che si affronta la guerra non è diciamo manifestando un sostegno a una delle due parti lo è manifestando piena solidarietà l'aggredito e pieno contrasto come per l'Ucraina è esattamente lo stesso Bonaccini lei che ne pensa penso che dobbiamo difendere prima di tutte le democrazie Israele è una democrazia è stato attaccato in maniera indiscriminata e ingiustificabile tra l'altro colpendo una marea di donne uomini tanti bambini dopodiché io sono uno di quelli che pensa che il rischio è che il principale sconfitto sia una flebile speranza di pace alla quale poco hanno contribuito entrambi nel recente e anche passato in particolare la destra israeliana non ha favorito un dialogo però va ricordato che se non si isola Hamas e gruppi fondamentalisti che hanno un solo obiettivo è quello di distruggere Israele e negare il diritto a Israele di esistere dopodiché oggi il Partito Democratico la segretaria di Asshain l'hanno detto intervenendo in Parlamento la prospettiva di due popoli e due stati è quella secondo me a cui la comunità internazionale dovrebbe provare a lavorare in battista e poi vi sposterò sulle conseguenze uno che avete anche in questo contesto come rispetto alla guerra in Ucraina centrodestra e centrosinistra la stessa posizione due dico che è ipocrita il discorso della Shaline che dice come Tajani per affrontare le questioni migratorie straparla parlando di piano Marshall per l'Africa che parla di piano Marshall dell'Africa quando non sa che dire chi non sa cosa dire o prendere posizioni nette a favore della pace parla di due popoli e due stati ma sa perché è ipocrita perché non ha mai presentato una mozione sul riconoscimento dello stato di Palestina se domani se domani la Shaline è segretario del PD arrivassi in aula condannando Hamas in ogni modo l'organizzazione terroristica condannandolo in ogni modo ma portasse una mozione per riconoscere la Palestina avrebbe senso io dico a Bonaccini e io so che lui la pensa così io sono d'accordissimo sull'isolare Hamas tra l'altro che è diventato il miglior alleato politico di Netanyahu se Netanyahu oggi può parlare di altro e non dei processi che ha e della galera che rischia è anche per Hamas per isolare Hamas si buttano le bombe su Gaza così state formando formirete decine di migliaia di terroristi del futuro è palese la risposta di Bonaccini e poi vi faccio vedere intanto qual è il problema del nostro paese prego intanto mi permetto però di dire che è importante che oggi tutta la politica italiana abbia condannato il terrorismo Hamas e gruppi fondamentalisti ripeto che negano l'esistenza stessa dello Stato di Israele di una democrazia Israele ha tutto il diritto di difendersi secondo il diritto internazionale dopodichè anch'io credo che se dovesse succedere un'aggressione a Gaza indiscriminata senza corridoi umanitari e rischiando di mettere a rischio tantissima parte di popolazione civile si rischia di creare nuovi terroristi per cui io mi auguro che sia un lavoro della diplomazia ma scusate sta succedendo sta succedendo sta succedendo ma ripeto quello che ho detto all'inizio nessuno oggi a caldo dopo la tragedia di quell'assalto terroristico ha l'autorevolezza può esprimere un auspicio ma non può dire se le fermati nessuno può dirglielo qual è il problema Stefano Bonaccini che questo scontro che abbiamo conosciuto anche perché possiamo mettere al posto della parola Israele e Palestina possiamo mettere Ucraina e Russia a questo confronto che ha portato avanti per lungo tempo il nostro paese in qualche misura dicono degli osservatori attenti però voi in Italia avete anche un altro problema enorme ed è quello economico non è che adesso iniziate a parlare di altro cosa succede succede che cartello 46 a breve ci diranno come stanno i nostri conti delle agenzie di rating di cui Giorgia Meloni fino a poco tempo fa diceva quello che vi faccio sentire ascoltate non ci interessa il servizio delle agenzie di rating sono società private che agiscono per conto dei loro investitori a me di quello che ha da dire Mutis potrebbe fregare di meno gli ultimi che ci hanno declassato questi di Mutis forse bisogna ricordare a chi ci guarda che hanno patteggiato negli Stati Uniti 900 milioni di euro per aver taroccato i rating sui Mutui che hanno causato la crisi del 2018 quindi che io mi debba fare spiegare come va la mia economia da quelli che mi hanno passato la malattia proprio no e invece Bonaccini saranno proprio loro a dovercelo spiegare lo teme questo momento? Lo temo perché inevitabilmente rischiano di aumentare i prezzi dei materiali dell'energia del costo della vita Giorgia Meloni deve preoccuparsi di quello che le diranno gli italiani io temo perché aveva promesso con video di fianco alle pompe di benzina di azzerare le accise e addirittura la benzina è a prezzi che poche volte era stata conosciuta aveva promesso sull'immigrazione lei i suoi amici porti chiusi prima gli italiani è finita la pacchia e gli immigrati io non do colpa al governo che arrivano sulle nostre coste ma gli immigrati sono raddoppiati aveva promesso di pensare alle fasce della popolazione più debole lei provi a parlare con qualsiasi italiano anche che ha votato legittimamente in democrazia Meloni e Salvini come vanno le prenotazioni delle visite sanitarie stanno demolendo la sanità pubblica e quindi io sono molto preoccupato perché il governo ha a disposizione poche risorse lo sappiamo ma le scelte che sta facendo di politica economica e sociale secondo me non sono le scelte giuste e soprattutto sta facendo il contrario di quello che aveva promesso in campagna elettorale mauro mazza è bello se il PD presentasse le sue proposte alternative non ne sento traccia non ne conosco traccia dovunque mi guardi nessuna proposta se vuole gliele faccio subito adesso tocca a me a tempo al luogo le diamo per acquisito a me fa molta impressione una cosa Giovanni che c'è una parte dell'opposizione che è politica mediatica intellettuale anche giudiziaria adesso abbiamo visto nei giorni scorsi che fa il tifo per Macron quando litiga con la Meloni e per sciolzo la stessa cosa fa il tifo perché lo spread va dalle stelle fa il tifo perché la commissione non accetti il PNRR e invece pare che lo accetti modificato dal governo fa il tifo per le agenzie di rating è un'opposizione sfascista Di Battista io credo che alcune cose siano vere nel senso che c'è una parte di opposizione che magari da sempre il muoio a Sanzone sì via però dottor Mazzo non sono io io faccio parte di quei cittadini che vorrebbe vorrebbe no non è che si rischia lo schema noi per questo non è che si rischia lo schema amici di Hamas amici di Putin se solo prevedi quello che può succedere cioè quando arriva il rating uno ne ha paura non è che ti fa a favore del rating il punto è che quando la Meloni parlava di non sono loro i padroni delle nostre linee economiche aveva ragione lei quella Meloni potrebbe ripetere perché quando oggi la Meloni è diventata presidente del consiglio non si è minimamente impegnata per affrontare tutta una serie di regolette di trattati che si poggiano su cosa? su quelle agenzie rating e sul PIL dottor Floris oggi il Fondo Monetario Internazionale io non gli do particolare credito non è che è il Vangelo però gli danno credito quei poteri europei che lei sta ossequiando in questo momento ha di fatto considerato la crescita del PIL in Italia 2023-2024 inferiore rispetto al previsto e ha dichiarato che la Germania e l'economia tedesca è molto legata a quella italiana è di fatto in recessione qual è il punto? è che la Meloni ha delle responsabilità su questo perché? perché per me non governa le chiedo una chiusura sul fatto che diceva Mauro Mazza attenti perché tra qualche giorno potrebbe tornare a dirlo può essere vero? Bonaccini guardi io sono d'accordo con Mazza che se l'opposizione dovesse solo criticare senza avere proposta alternativa servirebbe a ben poco e poco interesse agli italiani dopo però mi dica lui cosa pensa di quello che sta accadendo sull'immigrazione il contrario di quello che hanno promesso sul costo della benzina il contrario di quello che hanno promesso e voglio sentire dir da Mazza se è d'accordo con il governo o con me sul fatto che io insieme a Massimiliano Fedriga e tutti i 20 presidenti di regione abbiamo chiesto due mesi fa al governo e il ministro Schillacci ha detto che avevamo ragione subito 4 miliardi di euro per la sanità pubblica voglio sapere se Mazza preferisce una politica che privilegia la sanità privata piuttosto che una sanità pubblica che è un pilastro per un diritto che è quello alla salute no no concludo invece che la flax tax che nessun grande paese occidentale applica quei miliardi messi sulla tassa piatta li spostino su un più robusto taglio del costo del lavoro per alzare un po' di buste paga e dire a quegli imprenditori che vogliono sono arrivati ci diamo flash tante mani a tempo indeterminato le domande con la risposta già dentro quindi mi assengo vostro onore piccola pausa e parliamo del caso la russa lei non è in grado di darla perché è in imbarazzo lei in imbarazzo allora a proposito il pensiero unico bisogna in qualche modo controllare le critiche e benvenuto sempre con noi Alessandro I Battista sempre con noi Elisabetta Piccolotti benvenuto Massimo Magliaro Fondazione Almirante sempre con noi Fabio Dragoni della Verità allora succede che il report la trasmissione Direi 3 ci spiega che cartello 15 fa una lunga inchiesta sul nostro presidente del Senato e la sua famiglia e tira fuori che il padre viene accusato da un pentito di avere rapporti con la mafia il fratello porta un call center di regione Lombardia a Paternò il paese natale poi che altro esce fuori 16 il report sempre dice che il call center del cognato Ignazio Larussa lavora per la regione Lombardia il call center fallisce e Larussa premi indirettamente per il suo salvataggio l'avrebbe fatto comprare un imprenditore quello dice io mi ha fatto vedere che c'erano degli affari da fare ma ha fatto capire che se lo prendeva era meglio la russa tra l'altro questo è un dato di fatto sicuramente è socio di un imprenditore che ha rapporti con l'andrangheta hanno insieme un'enoteca e questo doveva avere dei soldi indietro non riesce a averli si rivolge all'andrangheta la russa la russa si infuria e manda questo video a report sono state riportate in qualche attività giudiziaria dovreste vergognarvi per questa volgare fake news e per questa falsità ma in ripresa da alcuno della quale risponderete in sede penale sappiate che sulla mia onestà posso mettere la mano sul fuoco su quella dei miei familiari padre fratelli ne possono mettere due di mani sul fuoco come vi possono confermare tutti dico tutti quelli che li hanno conosciuti è per questa ragione che su di loro non accetterò vostre illazioni per le quale ne rispondereste in sede penale spero che manderete per intero questa mia registrazione in risposta alle vostre domande a tutte le domande che mi avete fatto allora qual è il problema che c'è in mezzo anche il fratello in qualche misura di la russa una persona molto forte sulla regione Lombardia e il fratello D'Ignazio si chiama Romano Giorgio Motola di Report va e gli dice ma le conosce Giovanni Catanzaro amministratore delegato di Lombardia Informatica è un vostro amico di famiglia e ha portato il call center a Paternò e gli fa le domande anche sul call center sempre a Paternò del cognato dei Larussa Ras Pagliesi lo gestiva lui e Romano Larussa diciamo esce fuori un po' al naturale nei modi e da queste risposte sarebbe nel fare le domande solitamente la domanda un minimo di dignità non ce l'hai proprio ce l'ho perché faccio giornalista e sono pagato per fare domande sei un poverazzo la ringrazio ma lei conosceva Giovanni Catanzaro mi risulta che è un amico di famiglia è così è così è un amico di famiglia o no? devi andare fuori dalle scatole su adesso non dobbiamo parlare di polemico che fa? ma mi ruba il microfono ma guarda ne ho un altro è fortunato perché ne ho un altro facciamo con quest'altro amico mio quanto ti voglio bene andiamo a bere dai hai sempre offerto tu questa volta offro io non faccia così non mi metta la mano qui per favore non mi metta la mano così io non gli sto mettendo le mani addosso nemmeno io lo sto dicendo andiamo a bere qualcosa questa volta offro io cosa non va piccolotti? innanzitutto la paura di rispondere alle domande e questo non va mai bene per chi fa politica perché i cittadini i giornalisti sono tanti quelli che fanno le domande ai politici e i politici devono rispondere perché devono rispondere del proprio operato di fronte alla pubblica opinione e poi non va questa coazione a ripetere della querela temeraria che cos'è una querela temeraria? è una querela che si fa per cercare di intimorire il giornalista in modo che l'inchiesta non vada avanti che non si cerchino altre informazioni ora la disciplina sulle querele in Italia è sbagliata ci vorrebbe una decisione più veloce del giudice che possa liberare il giornalista da questo peso molto velocemente nel senso che il giudice dovrebbe dire se la querela è ammissibile o non ammissibile in tempi diciamo normali cosa che per la giustizia italiana non accade quasi mai e poi c'è questa vicenda del penale perché la querela che ha annunciato la seconda carica dello Stato appunto è penale non vuole solo un risarcimento ma cerca di mandare in galera le persone perché partiamo da questo argomento perché l'argomento delle informazioni è molto forte ora vedremo Salvini che il video ha tirato fuori ma sulla questione della russa Massimo Magliaro che pensa? io voglio rispondere soltanto a un punto il primo dei cartelli che avete mostrato io conoscevo molto bene il padre di Ignazio la russa conosco bene anche Ignazio la russa ovviamente romano molto di meno anzi direi per niente conoscevo Nino la russa Antonino la russa ha detto Nino per gli amici era un galantomo vecchio stampo sul conto del quale io mi sento di potere veramente io mettere la mano sul fuoco ma lei ha rilevanza a livello giudiziale? no io non ho nessuna rilevanza è una testimonianza visto che parliamo per sentito dire per echi rimbombi e cose di questo genere io sono uno che lo ha conosciuto io sono uno che lo ha conosciuto lo ha frequentato ci ha parlato lo ha visto in molteplici occasioni per anni non in un giorno per anni posso garantire sul mio onore che l'onorevole Nino la russa Antonino la russa era una persona per bene assolutamente per bene sul conto del quale aspettate che ora introduciamo l'argomento della giudice di Catania ma prima arrivano Luca e Paolo bisogna farli entrare capisco che non sia un momento semplice ma se vuol dire qualcosa guardi Saronetta la situazione internazionale è molto grave si si non c'è dubbio a rimarcarlo è anche questo silenzio assordante che senso scusi il silenzio lo sente il silenzio eh si guardi che assordante cosa si può fare per farlo passare perché proprio non so dovrebbe provare a dire qualcosa magari ah io eh si dovrebbe parlare se no c'è silenzio se non dice cosa pensa ah ecco perché c'era tutto quello silenzio è capito allora lo scorso weekend l'ha vista trionfante alla manifestazione di Roma no ha visto che roba si si ho visto il partito ci sta ricompattando finalmente ci stiamo riprendendo il popolo della sinistra stiamo realizzando il sogno di Lev Trotsky il nostro grande fondatore no guardi il PD non l'ha fondato Trotsky è stato Veltroni Veltroni Veltroni? si Veltroni Lev no Veltroni Walter proprio un altro puro? si si direi di si guardi non posso sbagliare ma basta con le divisioni Trotsky-Veltroni io sono contro il correntismo l'importante è che il PD stia ritrovando i suoi elettori tutti ha visto quanta gente c'era sabato al corteo si ma era un corteo della CGL ma le ho appena detto che non voglio sentire parlare di correnti ma non è una corrente la CGL non è una corrente del PD no bene una corrente in meno comunque su una cosa ha ragione sembra proprio che il PD stia ritrovando un feeling con gli elettori guardi io di questo sono felicissima significa che tutto quello che ho fatto in questi mesi come segretario del PD sta finalmente dando i suoi frutti e cosa ha fatto in tutti questi mesi? niente ha visto come funziona bene? non ho fatto niente ma l'ho fatto bene si si qualcosa ha fatto sta cercando per esempio di riunire tutte le aree di sinistra contro il nemico comune è vero Giuseppe Conte no 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 Meloni ah si beh certo c'è anche quella lì no quella lì almeno la Meloni lo sai che sta a destra ah quello sicuro invece quel Conte li si è spostato dove non doveva stare fa finta di essere comunista ma noi lo vediamo che non ce l'ha le Birkenstock che cosa? perché l'elettore di sinistra è un romantico Conte si è messo in mani anche di camicia come gli operai senza cravatta e tutto con bagagliolini e ci sono cascati ma è a presente è come vedere Floris con in mano una cazzuola è ovvio che l'elettore si si è possibile quindi è per contrastare l'assedio dei 5 Stelle che lei sta spostando l'asse del PD ancora più a sinistra quindi è certo perché la sinistra della gente e dei lavoratori siamo noi e siete voi ha visto che sono stata anche alla fabbrica della Perla vabbè sarà l'operai eh l'ho visto con il megafono in mano è un completino alla Perla sono 300 euro 100 euro di Birkenstock e stai da dire no si vabbè guardi non c'entra questo comunque tornando al tema manifestazione ne ha annunciato un'altra il prossimo 11 novembre viengio tutto marceremo insieme la nostra gente nelle piazze avanti popolo alla riscossa bandiera rosa bandiera rosa bandiera rossa bandiera rossa si ma la mia arma cromista mi ha suggerito un colore più tenue adesso ci vogliono i colori più autunni io con queste giacche sono troppo estate si guarda profitto ma sta arma cromista ma ci va ancora ma perché ci va? perché sto zitta per un'ora e a dire cagate un altro ah vedi per cambiare ho capito sembra che la posizione del PD sull'Ucraina per una volta sia precisa allora la posizione del PD è lineare e non cambia sostegno anche militare alla resistenza ucraina no no capito non si è capito allora io sono onnetta sostegno anche militare alla resistenza ucraina guardi lo dica più forte perché non si capisce se non la posizione sostegno anche militare alla resistenza ucraina oh è contenta signor Fagnani guardi non sono la Fagnani lei dalla Fagnani non ci ha neanche voluto andare non avevo il vestito del colore giusto sì ma forse voleva evitare le domande scomode io non ho paura delle domande scomode allora gliene faccio una lei sostiene l'invio di armi all'Ucraina ma sfila al corteo della CGL dove c'erano manifesti contro gli aiuti militari cazzo era meglio se andava dalla Fagnani arrivederci Schlein arrivederci allora bisogna fargli entrare quando arrivano ma torniamo a noi l'informazione in epoca di governo Meloni vi faccio rivedere il fratello di Ignazio Larussa al report messo alle strette sui rapporti che ha con un call center che è stato spostato proprio nel paese natale come reagisce alle domande di Motola sarebbe bene fare le domande solitamente la domanda faccio io la domanda faccio io un minimo di dignità non ce l'hai proprio ce l'ho perché faccio giornalista e sono pagato per fare domande sei un poverazzo la ringrazio ma lei conosceva Giovanni Catanzaro mi risulta che è un amico di famiglia è così è così era un amico di famiglia o no? devi andare fuori dalle scatole su adesso non dobbiamo parlare di tipo lento che fa? ma mi ruba il microfono sì ma guarda ne ho un altro è fortunato perché ne ho un altro facciamo con quest'altro amico di famiglia quanto ti voglio bene andiamo a bere dai hai sempre offerto tu questa volta offro io non faccia così non mi metta la mano qui per favore non mi metta la mano così io non le sto mettendo le mani addosso nemmeno io lo sta mettendo le mani addosso andiamo a bere qualcosa questa volta offro io andiamo a bere Alessandro I Battista il clima è quello che è no? è un clima sgradevole quanto meno dal punto di vista della difesa della privacy molto netti la russa attenzione queste sono illazioni però si scontra con un fatto che ha sconvolto un po' tutti sia quelli che pensano che il giudice non doveva andare alla manifestazione sia quelli che hanno qualche dubbio su queste immagini quali immagini? queste che ha postato Salvini su Twitter cinque anni dopo l'avvenimento e questo è il giudice sapete ormai tutti che ha bocciato il decreto fatto dal governo e ha liberato quattro tunisini poi si è aggiunto un altro giudice aspettiamo nei prossimi giorni qualche video oppure su di lui questa è la giudice sotto accusa a Catania alla manifestazione questa è l'immagine che significa questo Alessandro Imbattista? allora io ricordo sempre che quella giudice ha emesso un'ordinanza per liberare tre persone su 150.000 di quelle arrivate per cui prendersela con la giudice per il fallimento sulle politiche migratorie è assolutamente ridicolo questo è il gioco che c'è dietro però andiamo prima davanti per quanto riguarda la vicenda io faccio parte per me non sarebbe dovuto andare in quella manifestazione perché comunque sei un giudice evita anni fa io invitai diverse volte il dottor Di Matteo a parlare di mafia a alcuni eventi di lotta alla mafia del Movimento 5 Stelle rifiutò sempre finché non organizziamo un convegno all'interno della Camera dei Deputati e lui disse è un luogo istituzionale vengo a parlare delle mie idee di lotta alla corruzione si è comportato in maniera seria però la persona oggi più politicamente ridicola adolescenziale e anche cialtronesca che c'è in Italia è il vice premier ministro dell'interno ex ministro dell'interno il quale riceve un video non si sa bene da chi e lo pubblica stiamo diventando un paese che è così puerile e ridicolo veramente da risentare la gravità assoluta abbiamo il presidente del senato seconda carica carica dello Stato che definisce giornalisti di report calunniatori seriali non sono mai stati condannati per calunnia rispondi querela hai diritto a querelare perché non verranno fatte delle riforme sei la seconda carica dello Stato ma come ti permette di avere quegli atteggiamenti e lì ha quell'altro che toglie il microfono che insulta io sono stato sempre durissimo con la carta stampata e con il potere occulto dietro l'informazione non libera in Italia però poi io non ho mai fatto la verginella e ho attaccato a spada tratta ma non mi sono mai permesso di trattare un professionista in quel modo Dragoni da dove arrivano quelle immagini? ma guarda la realtà è molto più semplice di come la si dipinge voi mettetevi nei panni di quei poliziotti lì ce ne saranno stati una ventina i poliziotti non fanno i gelatai quindi lavorano in un settore il settore della sicurezza volete che non si siano meravigliati nel vedere un magistrato alla manifestazione e volete che un'immagine del genere non vi rimanga impresso per tutta la vita di quanto ne avranno parlato del fatto che un magistrato era lì ad urlare ad inveire contro di loro notare bene che quel magistrato ha provato inizialmente a dire ero lì a fare alla forza di interposizione ma quando mai ma quando mai un magistrato si mette a fare la forza di interposizione poi dopo e si è svelato e si è scoperto che il magistrato era lì ad urlare e a battere le mani siamo tutti antifascisti ecco quelle immagini ti rimangono impresse per sempre ed è normalissimo che dopo cinque anni il carabiniere che ha girato quelle immagini ma c'era un ragazzo con il telefonino là dietro che girava le immagini dal lato opposto quindi siccome si è sentito dire soffre riconoscimento facciamo ma queste immagini ti rimangono impresse per sempre ma facciamo così non rimanerti impresse vedi un magistrato lì a cantare ma la ciao va bene rimaste impresse per sempre facciamo che questa è la versione Dragoni noi non vogliamo la versione Dragoni noi vogliamo la versione ufficiale del ministero e della magistratura cioè vogliamo che qualche perito prenda il telefonino in cui era custodito questo video e ci spieghi da dove viene chi l'ha girato chi l'ha girato e chi l'ha mandato a Salvini siccome c'è un certo nervosismo quando facciamo questa domanda c'è un certo nervosismo fior fior di dichiarazioni nervosismo sulle interrogazioni sugli esposti che abbiamo fatto noi vogliamo una risposta ufficiale ma cosa si sospetta se ci sono dei sospetti diriamoli fuori si sospetta un dossieraggio una cantina dei segreti ricordate il caso di Pio Ponte io francamente non lo so però questo è il paese dove i servizi segreti si infiltravano all'interno anche dei militanti di estrema destra e lo sa il dottor Magliaro è il paese in cui si sospettano infiltrazioni di servizi segreti addirittura all'interno delle BR durante il rapimento Moro è il paese in cui i servizi segreti sono immischiati o parte nei delitti di mafia perché i mandanti esterni occulti e incredibili dei delitti di Falcone e Borsellino sappiamo che probabilmente sono pezzi dello Stato è il paese in cui lo citava Floris venne trovato un archivio di via nazionale 2005 dove un uomo Pio Pompa amico del SISDI dei servizi segreti militari faceva dossieraggio di politici magistrati non mi stupirebbe ma il punto per me non è neppure quello io vi domando è serio cioè siamo un paese serio se il vice premier o il presidente del consiglio giustamente dovrebbero impugnare l'ordinanza del giudice giustamente se ritengono che sia sbagliata e dovrebbero arrivare in Cassazione e si dovrebbe parlare non che il vice premier pubblico un video su Facebook non è un social media manager è il vice premier della Repubblica Italiana che ci dice questo il VM106 arriva a Magliano allora vorrei dire aspetti faccio vedere cosa ha detto Salvini proprio su questo argomento 106 sì su 9.000 magistrati due la pensano così è una buona percentuale evidentemente in qualche tribunale c'è qualche problema e in qualche redazione di giornale c'è qualche problema tutto qua andiamo a risolverlo Magliara allora dopo tutto questo polverone chi è stato chi non è stato eccetera mi rifaccio a quello che ha detto nella sua omelia di inizio trasmissione Augas una volta tanto condivido quello che ha detto il giudice non doveva andare alla manifestazione punto finito il discorso finisce qui non chi l'ha ripresa chi non l'ha ripreso questo è tutto una canizza che viene alzata per evitare di dire il problema qual è un giudice non deve andare nelle manifestazioni di partito tanto è che Giorgia Meloni dice ma come fate a parlare di dossier aspetti piccolotti guardi cosa dice Giorgia Meloni come fate a parlare di dossier tutta la polemica che sto vedendo sul video il dossieraggio se partecipi a una manifestazione pubblica lo rivendichi cioè dossieraggio di solito si fa è un'attività occulta che si fa per tirare fuori delle cose che non si sanno se uno sta in una manifestazione proprio col proprio volto in prima fila dietro uno striscione che dossieraggio è? piccolotti allora la prima cosa è che la sentenza ha delle ragioni fondate e motivate l'ha detto Augas e lei dovrebbe essere d'accordo tanto più che ci sono altri due giudici che hanno fatto la stessa sentenza segno che se discutessimo nel merito scopriremo che il governo ha scritto delle norme inapplicabili che violano la Costituzione siccome siccome il governo non è voluto stare nel merito ha cercato di demolire la figura della giudice che aveva fatto la sentenza non riesco a demolire la sentenza demolisco la giudice che non è andata a una manifestazione di partito l'unico giudice che si è vista a una manifestazione di partito era quello che stava alle manifestazioni di Forza Italia che giudicava i fratelli di uno dei deputati di Forza Italia memoria corta ho riletto pure il caso prima di venire qui quindi sto dicendo una cosa giusta lei non stava a una manifestazione di partito era andata anche ma stava al posto suo che vuol dire al posto suo? era molto corretto nei confronti delle istituzioni non ha mai fatto discorsi di parte mai perché la giudice ha fatto discorsi di parte? è andata al porto sto parlando di Borsellino non di questa la signora apostolica non si capisce perché alcuni possono andare altri non possono andare non ho capito ma non stava facendo un comizio davanti alla polizia una manifestazione gli applausi ma non ha fatto un comizio non c'è nessun comizio della giudice la giudice è andata al porto e c'era una manifestazione dei movimenti antirazzisti parlavo di Borsellino che è andata a un convegno con le associazioni cattoliche lei stava a una manifestazione una cosa diversa ma non vuol dire nulla ma non vuol dire nulla ma che vuol dire un conto è un convegno di partito un conto è una manifestazione umanitaria che chiede semplicemente che dei profughi vengano fatti scendere da una nave c'erano i cattolici c'era un'associazione di volontariato c'era un mondo che era quindi naturale che mettesse una sentenza viziata dai non è sviziata tanto che altri giudici la pensano esattamente allo stesso però aspettate perché è il momento di togliere il velo è una manifestazione di piazza dove un giudice non deve andare quindi nei convegni di partito bisogna andare a manifestare in piazza Alessandro Di Battiamo togliamo il velo da quello che stavamo dicendo dunque c'è stato un grande si sono riuniti in Europa proprio sui migranti e è successo che cartello 11 cosa è successo? si sono incontrati tutti i grandi e è uscito fuori il consiglio europeo allora vi ricordate tutta la questione non bisogna citare l'ONG bisogna non parlarne non metterle tra quelli che possono intervenire e cosa hanno fatto? i furbi europei l'hanno spostato nel preambolo è vero che a Granada il grande consiglio richiamato dalla Giorgia Meloni proprio a parlare di immigrazione non ha fatto nessun riferimento sull'immigrazione e c'è una dichiarazione molto forte sui migranti è una sfida europea allora dietro che c'è? solo un flash la posizione che avete voi anche legittima sulla partecipazione del giudice vi dovreste indignare per me della presenza di Nordio che venne pizzicato a cena con Previti quando da magistrato invece Previti era inquisito poi è stato condannato per corruzione in atti giudiziari l'attuale ministro della giustizia venne pizzicato con un uomo che è stato poi condannato per corruzione politico ex ministro della difesa di Berlusconi io credo Floris che questa sia comunque fuffa dichiarazione a parte sui migranti sfida europea non c'è soluzione non c'è soluzione reale ricordo quando alcuni all'interno centrodestra esultavano perché la Fonderlein aveva accompagnato la Melonia Lampedusa dicendo sostanzialmente dando sostanzialmente ragione questa è una sfida europea non devono entrare illegali in Europa chiacchiere chiacchiere da bar dette da un rappresentante di un continente che per parafrasare il professore della meglio gioventù che parlando dell'Italia dice un paese sempre più bello ma inutile l'Europa è diventato un continente sì bello ma sempre più inutile Bragoni sei dietro a tutta questa questione volevo aggiungere coprire ora rimarremo tutti qua e parleremo un po' dei tre grandi temi la guerra l'economia e l'immigrazione in tutti e tre temi ci sono dei dibattiti talmente forti che alle volte coprono i fatti o no? è vero fammi aggiungere una cosa è facile essere pizzicati con persone condannate anche Giovanni Floris potremmo dire è stato pizzicato con il giudice Davigo che è stato condannato non mi avete pizzicato l'ho invitato in televisione detto questo sul tema no detto questo sul tema sul tema sul tema dell'immigrazione non è una magistratura è stato un bicchiere qualcosa è chiaro ma aspetti che ne parliamo dopo la pubblicità cioè è facile essere condannati in Italia è molto facile essere condannati a me non è mai capitato aspettiamo a criminalizzare non è neanche obbligatorio però ma detto piccola pausa e parliamo di più con questo piccola pausa dottor Davigo si tenga la risposta perché ritorneremo all'informazione al controllo dell'informazione al ruolo dei magistrati prima Laura Gobetti che novità ci dai sì che alla televisione israeliana è stata mostrata la telefonata di Netanyahu a Biden Netanyahu ha detto al presidente americano una ferocia così non si vedeva dai tempi dell'olocausto invece per quanto riguarda l'incontro per un ipotetico governo di unità nazionale è stato rinviato a domani allora Alessandro Di Battista torniamo al nostro tema di fondo come stiamo comunicando questa guerra e i politici su quali linee si stanno attestando ripeto i politici dovrebbero dare delle soluzioni io sento questo va condannato senza se senza ma l'azione terroristica di Hamas assolutamente d'accordo e poi Israele ha diritto a difendersi servirà un'azione diplomatica fermo restando che sulla condanna penso siamo tutti d'accordo Israele ha diritto a difendersi mi potete elencare quali sono i diritti dei palestinesi per sapere i palestinesi hanno diritto ad un paese loro sovrano non ce l'hanno hanno diritto ad utilizzare una moneta loro non ce l'hanno hanno diritto a uscire da Gaza non ce l'hanno hanno diritto a non vedere occupate le loro terre in Cisgiordania territori che si chiamano territori occupati dove lì l'aggressore è l'esercito israeliano che dovrebbe starci lì non ce l'hanno un attimo un attimo hanno diritto ad essere riconosciuti a livello internazionale sì non ce l'hanno hanno diritto a vedere rispettate decine di risoluzioni votate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sì o no perché non vengono rispettate e la mia domanda è come si può convincere oggi un ragazzino di dieci anni a credere in una soluzione diplomatica se tutti gli spazi diplomatici nonché gli spazi per fuggire da Gaza sono chiusi come è possibile convincere un bambino palestinese a spirare nella comunità internazionale se negli ultimi trent'anni nessuno neanche citava e menzionava il popolo palestinese che era finito come e concluto gli ucraini oggi per due anni in questo studio si è parlato di uno scontro di civiltà Draghi diceva o si vince in Ucraina o è finita per l'Unione Europea oggi la guerra in Ucraina è dimenticata nessuno sa quel che sta avvenendo quello che è in atto da parte di Hamas è un vero e proprio massacro quello del terrorismo non ha nulla a che vedere con la guerra la guerra guarda la guerra purtroppo la vediamo la conosciamo è quella che si combatte drammaticamente tra due eserciti che ha poi delle ripercussioni sulla popolazione civile ma qui ci troviamo di fronte le notizie di oggi devono cambiare anche la nostra prospettiva del racconto della guerra me lo dico per primo io stesso 40 40 bambini uccisi i civili le persone che sono state massacrate nelle loro case i civili 200 civili presi come ostaggio allora se tu oggi vuoi discutere ed è giusto lo possiamo fare due popoli due democrazie due stati lo abbiamo e lo hanno sempre detto il primo problema dei palestinesi da 40 anni a questa parte da 30 anni a questa parte si chiama Hamas a Gaza a Gaza io non ho mai visto una sola manifestazione di palestinesi contro il proprio regime ho visto invece a Tel Aviv e a Gerusalemme la società civile protestare contro Bibi Netanyahu anche pezzi dell'esercito la differenza tra la democrazia lo stato di diritto e quello che accade e su questo non avete detto nulla io non ti ho mai hai visto dire esiste un problema di libertà di diritto e di democrazia in giro in la striscia di Gaza tu hai fatto il politico oggi fai il giornalista scrivi su un giornale dove un autorevole professore di cui non voglio neanche fare il nome perché mi ha parlato stai parlando con me può aggiungere nel tuo giornale che è stato un paragone te lo voglio leggere in cui si dice che Netanyahu è un terrorista come Hamas per me Netanyahu ha mille limiti ma è un leader democraticamente eletto che sta difendendo il suo popolo quindi terrorista contro terrorista vi dovete solo vergognare vergognare che Parenzo che fa l'opinionista non abbia quotizzato alcun non era un insulto giornalista non era un insulto non era un insulto abbia presentato la sua visione delle cose senza soluzioni non mi scandalizza io non devo io aspettate uno per volta il tema è che si stava discutendo sui ragionamenti politici e i doveri di un politico e dell'Unione Europea che è del tutto assente l'Unione Europea la sta cavando mettendo le bandiere di Israele sul palazzo Chigi sulla porta di Brandeburgo come ha messo le bandiere dell'Ucraina portando avanti fatemi corrispondere anche perché è in minoranza ma non è che mi spaventa no non creda non ho presentato senza portare delle soluzioni dopo due anni sentiamo la santa sede parlo della guerra in Ucraina o parliamo sentiamo addirittura Romano Prodi parlare appunto dell'assenza di diplomazia qual è il punto io dico questo Giovanni che per vent'anni coloro che si sono scagliati contro la guerra in Afghanistan sono stati tacciati di filo talebanismo siete a favore della sciaria contro i diritti delle donne poi con i talebani c'è sceso a patti l'occidente oggi il giochetto è quello ah non parlate oggi non condannate adatto l'ho condannato dunque siete filo a mas o antisemiti stronzate io con il giochetto proprio non ci gioco e dico che è inutile portare avanti un discorso se non si accettano i diritti di un intero popolo che per me è il popolo più allora aspettate un passo alla volta che ne pensa arriviamo a tutti che ne pensa allora intanto penso che ho qualche difficoltà a stare in uno studio televisivo a parlare di questa situazione come se fosse il tifo tra due squadre di calcio io avrei voluto che la bandiera sui palazzi delle nostre istituzioni fosse stata la bandiera della pace perché penso che le istituzioni e la comunità internazionale debbano lavorare per la pace non a buttare benzina sul fuoco e a fermare l'assedio che in questo momento sta subendo la città di Gaza perché quella è una popolazione che viene bombardata in queste ore non stiamo parlando di un esercito stiamo parlando di donne e bambini che sono tra l'altro da vent'anni che vivono le stazioni umiliazioni un regime di apartheid che non si può forse quindi a partire di amassa brava aspettate calmi uno per volta non parlate tutti ora toccherà Giubilei Giubilei no mi colpisce di non aver sentito nemmeno una parola la presento il presidente della fondazione è tutta a Tarella prego però qua c'è un problema noi possiamo discutere lo si sta facendo da tanti anni della questione tra Israele e la Palestina della differenza del popolo ebraico il popolo palestinese e quant'altro però quello che stiamo commentando in queste ore non è uno scontro che va avanti ormai da decenni tra due diverse visioni del mondo e tra due diverse nazioni stiamo parlando di un atto terroristico se noi non partiamo da questo presupposto tutta la discussione che consegue conseguentemente non ha ragion d'essere noi dobbiamo mettere in modo ben chiaro che ci sono state mille persone uccise civili ma questo diciamo l'hanno riconosciuto ma questo non è stato riconosciuto tutto perché figure come Patrick Zaki ne cito una su tutte vabbè però qua c'è di Battista e Elena Comor allora cosa dice perché lui dice in cui accusa Netanyahu che è un leader democraticamente eletto che può piacere o può non piacere di essere un serial killer e non spende una parola invece nei confronti dei crimini andiamo sulla teoria allora la professoressa insegna filosofia teoretica dicono guardate che qua c'è una confusione di qualità da una parte abbiamo uno stato che avrà mille difetti avrà delle politiche sbagliate però è uno stato democratico democraticamente eletto che è stato attaccato da dei terroristi e non dai rappresentanti del popolo palestinese dice Giubilei quindi fermiamoci su questo dice Di Battista perché ci dobbiamo fermare su questo vediamo da dove nasce questo per risolvere ce lo spieghi lei che è filosofa ma allora anzitutto io ho molte difficoltà a parlare di quello che succede perché anch'io ho cioè la tifoseria mi dà fastidio soprattutto in questo in questo contesto e vorrei dire anche che non c'entra niente con la guerra d'Ucraina questo conflitto nulla i paragoni che ho sentito anche questa sera anche alla lontana sono grotteschi detto questo detto questo allora la mia posizione è questa Israele è un grande paese è un grande paese da tutti i punti di vista è una grandissima democrazia non fate lo dico anche ai telespettatori che ci seguono non fate l'errore di identificare Israele con Netanyahu Netanyahu è un politico un politico corrotto un politico che ha fatto di questa estrema destra e dovrebbe farci riflettere oggi in Italia che ha fatto soprattutto in questi ultimi anni tantissimi errori Israele è stata una metà e più di Israele era in piazza a protestare contro la riforma e la giustizia detto questo e io non sono d'accordo per niente e penso che anche a sinistra ci siano dei grandi problemi la parola apartheid è vergognosa vergognosa no è vergognosa non ho capito si può usare o non si può usare nei confronti palestinesi non si può usare non si può usare allora usatela anche per l'Italia perché anche no anche l'Italia ancora anche l'Italia usa l'apartheid con i migranti allora non è questo questo secondo me scusi questo secondo me è un grande odio è un grande è un grande è un grande odio nei confronti del popolo ebraico esatto va bene usare la parola apartheid detto questo detto questo e distinguiamo cosa che lei non ha fatto tra popolo ebraico e israeliani il popolo ebraico è anche nella diaspora detto questo secondo me quello che ci ha fatto vedere in questi giorni terribili è un'israele diversa un'israele vulnerabile fragile cosa che israele è perché israele è vulnerabile allora dobbiamo avere il coraggio arrivo al dunque detto questo detto questo io spero assolutamente che non ci sia un attacco da terra spero che il cabinetto di guerra nel frattempo sia mi faccia finire no non c'è già non c'è già e che vengano rispettati israele porta un grande nome ha una grande responsabilità una responsabilità in più e deve assolutamente rispettare i diritti del popolo palestinese la questione dello Stato è superata è uno slogan se poi avrò la possibilità di intervenire lo farò i due Stati non sono possibili bisogna andare verso nuove forme politiche questo è il punto non è possibile Stefano Zurlo ci arriviamo vorrei andare vorrei togliere però scusate un po' di retorica dal discorso perché qui stiamo dicendo io non ho fatto nessuna retorica ho fatto un'analisi ho fatto un'analisi anche personale però professoressa faccia parlare Zurlo in 30 secondi voglio dire qui si sta dicendo in un certo modo Israele deve stare con le mani legate no io non ho detto questo nel modo più assoluto penso si rivolga a Di Battista professoressa penso si stia rivolgendo non mi metta per comodo delle parole che io ho detto esattamente il contrario riprendi la sua lezione non mi fa 15 secondi perché gli fa comodo perché gli fa comodo perché è troppo comoda quella posizione a me non fa comodo assolutamente non date Israele alla destra posso parlare 8 secondi non identificare Israele con la destra lo studio che credo facesse riferimento tra l'altro alle tesi di Battista perché voglio rispondere alla questione che lui ha posto dicendo uno Hamas ha fatto sprofondare ulteriormente la causa palestinese di 20, 30, 40 anni perché Hamas è nemico del popolo palestinese ora diventa inestricabile in questo momento dividere le due questioni forse bisogna liberarsi di Hamas per poi riscoprire la causa palestinese ci siamo liberati dai nazisti ma non è che tutti i tedeschi erano nazisti giusto? questo è un problema politico ma è anche in questo momento un problema militare inutile girarci intorno dopodiché io sono per i corridoi umanitari per il rispetto per i bambini per tutto mi domando come si farà adesso a Gaza dire ok qui sì qui no sarà probabilmente una situazione ingovernata guardate quanti questa è la realtà di cui dobbiamo parlare quanti palestinesi rappresenta Hamas guardate abbiamo delle fonti naturalmente è impossibile avere dei dati certi non stiamo facendo matematica però abbiamo questi dati nel cartello che un giorno uscirà ed è un sondaggio del 2023 il 56% dei palestinesi oggi li voterebbe uno su due chi rappresenta il governo di Netanyahu guardate da chi è formato ora naturalmente sarà un governo di unità nazionale più ampio abbiamo la destra liberale i conservatori ebraici ultraortodossi i conservatori ebraici ultraortodossi che si vedono in un altro partito e il partito sionista religioso estrema destra ultranazionalista per questo si diceva e diceva la professoressa non confondete Netanyahu con gli israeliani di Battista la replica poi abbiamo Caprarica attenzione perché poi abbiamo la politica e l'informazione vorrei soltanto dire che io sono d'accordo con lui rispetto al problema Hamas e isolare i terroristi il problema è il seguente quando ci fu l'operazione piombo fuso dove entrarono a Gaza truppe di terra massacrando anche civili gli obiettivi del governo israeliano furono essenzialmente due neutralizzare Hamas una volta per tutte e mettere in sicurezza i confini di Gaza che ci ha parlato israeliano Hamas non è stata neutralizzata anzi si è rafforzata e i confini intorno alla striscia di Gaza sono diventate ancora più pericolose io quello che sostengo dai tempi della risposta alle torri gemelle compresa la guerra in Afghanistan la guerra in Libia la guerra in Iraq è che il terrorismo islamico l'unico modo per affrontarlo è togliergli benzina ogni bomba produce nuovi terroristi Caprarica e poi come ha detto benzina mi faccio vedere un aspetto molto male è un prodotto del vuoto di potere causato all'interno di una strada allora siamo d'accordo che occorra togliere la benzina ma qui adesso stiamo sul pezzo il pezzo è che Israele ha diritto a difendere radere al suolo gas non sto un attimo fatemi parlare allora noi stiamo parlando di una situazione avete citato poc'anzi Germania Hitler nazismo allora noi abbiamo una situazione drammatica nel campo palestinese perché purtroppo quei dati sono spaventosi nascono da dove nascono e lo sappiamo tutto dalla discriminazione dal fatto dalla mancanza di diritti ma il risultato è che oggi purtroppo il campo palestinese è avvelenato da questa organizzazione che come tutti sappiamo è anche parzialmente prodotto un prodotto del demonio dei servizi segreti parzialmente israeliani però noi abbiamo a che fare con un fenomeno che dopo in una chiave di lettura nasce per indebolire Arafat evidente ma il punto è che oggi abbiamo di fronte un fenomeno che ha un tempo terroristico e di massa cioè il rischio vero è che se non affrontiamo Hamas oggi sul terreno facendola finita di confrontiamo non solo come Stato di Israele come campo occidentale delle democrazie corriamo il rischio di trovarci in Medio Oriente un focolaio spaventoso animato dall'Iran Maurizio Mannoni legna da ardere dell'irredentismo palestinese Maurizio Mannoni si sogna spazzare via Hamas attenzione aspettate abbassiamo tutto abbassiamo lo studio veniamo su di me qual è il problema Maurizio Mannoni ora vedremo anche la Torici vedremo tutti quanti problemi intanto la comunità internazionale deve affrontare se vediamo la foto di Palazzo Chigi questa immagine con la bandiera è un modo di partecipare al dolore di un popolo però dicevano anche degli ospiti prima e degli osservatori attenzione perché è anche un modo di formare le squadre in qualche misura delle squadre che se poi andiamo a vedere dentro Israele e dentro la Palestina non sono così nette allora guardate 35 quanti integralisti nella popolazione israeliana cartello 35 dobbiamo un po' accelerare questi cartelli allora ci sono i partiti ultradossi di estrema destra hanno registrato complessivamente il 26% alle ultime elezioni guardate da quanto tempo Hamas non indice elezioni a Gaza 36 l'ultimo voto è nel 2006 37 quanti integralisti ci sono nella popolazione palestinese abbiamo visto uno su due e guardate la notizia più scioccante la stampa israeliana come affronta questo periodo cartello 38 sono delle frasi che potrebbero sembrare in qualche misura qua dette in uno studio di qualcuno che non ama Israele Netanyahu non è riuscito a soddisfare i più elementari bisogni di sicurezza degli israeliani allora Maurizio Mannoni quanto è il rischio che ci schieriamo su squadre che ci impediscano di risolvere il problema il rischio come sempre nel nostro paese è enorme lo sai benissimo del resto anche questo interessante dibattito che stiamo portando avanti già lo fa capire il modo con cui affrontiamo l'argomento ci dà l'idea che subito ci si schiera in squadre contrapposte mentre qualcuno ha detto la guerra in Ucraina è stata dimenticata dopo due anni quella medio orientale l'abbiamo dimenticata da 80 anni quindi diciamo da questo punto di vista le nostre colpe di conostere per dire l'Occidente la comunità internazionale le nostre colpe sono da questo punto di vista enormi quindi adesso abbiamo anche un po' la coda di paglian a affrontare questi argomenti ma insomma Di Battista prima ha fatto un elenco preciso condivisibile condivido punto per punto le domande che ha fatto sui diritti negati al popolo palestinese non da oggi ecco nessuno però ha saputo risponderli o ha voluto risponderli perché non si può rispondere perché sono tutte domande che contengono no aspettate perché Mattrici ci porta sulla politica se noi non ci poniamo dopo avere ecco perché non vorrei subito essere arruolato nell'esercito di Hamas no ma se non ci poniamo queste domande dopo 80 anni in presenza di questa la questione medio orientale non la risolviamo hai ragione lì c'è dal mio punto di vista da quel che conosco la medio orientale in 40 secondi c'è un enorme problema di leadership nel mondo palestinese e lo scopriamo adesso da una parte abbiamo la Cis Giordania che diciamo sono gli eredi dell'ex OLP quello che abbiamo conosciuto dove non si vota perché vincerebbe Hamas dove non si vota perché vincerebbe Hamas e c'è un signore molto anziano però il 56 mi ha sorpreso c'è un signore molto anziano di 85 anni che si chiama Abumazen che è lì e che prova a governare questo pezzo di territorio dall'altra c'è Hamas cioè i fondamentalisti islamici che governano la striscia di Gaza e che vorrebbero anche gettare come dire un'OPA rispetto al governo della Cis Giordania allora c'è un enorme problema di leadership all'interno del mondo palestinese i palestinesi sono vittime Matteo Ricci non le chiederò la sua posizione su questa vicenda ci arriveremo le chiedo un'altra cosa sono due giorni sono passati dall'attacco di Hamas guardi cosa è successo al petrolio cartello 52 in pochi giorni allora il gas è cresciuto il 15% è risalita a 50 euro al megawatt ora sul mercato internazionale il petrolio è cresciuto del 4% è tornata a ridosso dei 90 dollari al barile e guardi da dove prendiamo il gas dopo che ci siamo ribellati all'idea di averlo dalla Russia che invadeva l'Europa libera 53 da dove lo prendiamo dall'Algeria che ha sostenuto Hamas dall'Arzebagian che ha invaso il Nagorno Karabakh con il genocidio armeno la Norvegia e l'Olanda poi i retti stanno benissimo e fanno tutto come si deve quando la politica impatta sull'economia quanto è importante che quanto è importante che diciamo quanto è utile a chi non vuole farci pensare a qualcos'altro non nell'immediato è chiaro che parleremo tutti di questo ma quando ci troveremo davanti al problema che cartello 40 noi per farci prestare i soldi ci dobbiamo dare facciamo conto 196 la Grecia per farsi riprestare deve dare a chi glieli presta 149 la Spagna 111 il Portogallo 70 la Francia 56 l'Olanda 36 a noi ce li danno meno volentieri perché ce li danno meno volentieri perché è più probabile che non li restituiamo in che condizione siamo in questo momento e cosa succederà quando arriveranno i giudizi delle agenzie di rating siamo in una situazione complicatissima tutti noi dobbiamo sentire secondo me addosso il peso della situazione perché le conseguenze economiche sono e saranno pesantissime anche di questo conflitto in più dal punto di vista geopolitico è vero che la guerra tra Russia e Ucraina non c'entra nulla con la guerra in Medio Oriente ma è uno scenario di guerra che si rafforza intorno all'Europa e quindi è evidente che un escalation militare su questi due conflitti può portare degli scenari drammatici nei prossimi mesi quindi anche per questo dobbiamo evitare di fare i tifosi perché qui non c'è da fare i tifosi c'è da essere preoccupati e da capire come davvero l'Europa può diventare anche un soggetto internazionale vero con una politica estera e un esercito europeo cosa che ancora non abbiamo Matteo Ricci mi dica se la tranquillizza avere a affrontare i problemi dello spread e del rating un governo che la pensa così guardate Giorgia Meloni e Matteo Salvini sullo spread poco tempo fa dall'Europa e dalla Germania ci facevano le minaccece mafiose significa o votate come diciamo noi poco spread lo facciamo avanzare all'infinito evidentemente qualcuno in passato ha usato lo spread come arma di battaglia politica ormai mi sembra chiaro ed evidente a tutti lo spread ricordate lo spread negli ultimi anni è stato considerato il grande metro di giudizio per valutare lo stato dell'economia italiana vogliamo stare a questo parametro di altri perfetto negli ultimi 100 giorni lo spread è sceso da 236 a 175 punti base cioè meno di quanto è salito negli ultimi anni quindi è importante lo spread quindi come dire come capita su molte cose dice l'esatto opposto di quello che diceva quando era l'opposizione quindi non è la prima volta che nell'ultima era già al governo questo ultimo era già al governo ma era il momento in cui scendeva però è evidente che la fiducia nei confronti del nostro paese è importantissima andiamo verso una manovra di bilancio che chiederà di fare ulteriore debito anche qui non è che fare ulteriore debito sia un tabù ma per fare cosa? per fare la flat tax o per dare i soldi alla sanità pubblica? si tratta di capire qual è l'obiettivo di questa prossima legge di bilancio quindi è chiaro allora Emanuella Bertucci arriviamo a giubilei Emanuella Bertucci posso osservare che fare maggior debito è comunque una bestialità per le future generazioni ma aspetti se è giubilei Emanuella Bertucci ha boccato adut veramente non è una cosa positiva cartello 44 arriviamo anche a lei Claudia Conte cartello 44 cosa dice oggi il fondo monetario? vi ricordate qua in questo studio c'erano Di Battista contro Bocchino se li avevate visti e Bocchino diceva guardate che il fondo monetario dice che cresceremo 1 e 2 oggi ha detto 0,7 nel 2023 nel 2024 questo potrebbe significare che i calcoli che abbiamo fatto sono prima ancora di presentarli in Parlamento cioè domani mattina già sballati di 5-6 miliardi perché diciamo non è tanto complessa la cosa e il rapporto è tra debito e PIL e tra deficit e PIL più scende o più cresce l'altro più cambiano i numeri allora più cresce il deficit più è un problema più scende il PIL più è un problema cosa può succedere ai consumatori mentre noi affrontiamo i temi che affronteremo ora anche con il dottor Davigo sulle informazioni sulla magistratura in cui viviamo in maniera così passionale una battaglia su cui non possiamo incidere perché intanto Laura Gobetti ci sta spiegando che cosa succede a quelle parti cosa succede di pratico domani agli italiani succede che l'Istat ha certificato che nel mese di agosto sono calati non soltanto i volumi ma anche i valori dei consumi che è un dato significativamente diverso rispetto a tutti quegli altri che abbiamo registrato fino ad ora nel periodo dell'inflazione che vuol dire vuol dire di fatto che la gente compra meno e spende anche meno e quindi gli italiani fondamentalmente si stanno dimostrando molto più saggi anche del loro governo cioè si rendono conto che siamo in un momento di grave crisi economica ritirano i remi in barca risparmiano e spendono meno quanto all'Italia a me viene da pensare alla figura del funambolo che sta camminando sulla sua fune che però ha un bilanciere di fatto bilanciato male perché da una parte ha un debito assolutamente superiore a quelle che erano le aspettative anche sue proprie e dall'altra parte ha delle previsioni di crescita sempre sballate quindi nel cercare di tenere questo equilibrio qualsiasi irrefolo di vento rischia di farlo cadere ed è un po' quello che sta accadendo cioè tutti i timori su cosa accadrà con il prossimo rating il cui giro si chiuderà a novembre per vedere se effettivamente saremo declassati a spazzatura o riusciremo ancora a galleggiare a tenere la testa fuori dall'acqua quando si è declassati a spazzatura che cambia? lo dicono anzi guardi guardi chi lo dice ecco le agenzie di rating secondo Meloni e Salvini cosa sono? non ci interessa il servizio delle agenzie di rating sono società private che agiscono per conto dei loro investitori di quello che ha da dire Budi potrebbe fregare di meno gli ultimi che ci hanno declassato questi di Mutis forse bisogna ricordare a chi ci guarda che hanno patteggiato negli Stati Uniti 900 milioni di euro per aver taroccato i rating sui Mutui che hanno causato la crisi del 2018 quindi che io mi debba fare spiegare come va la mia economia da quelli che mi hanno passato la malattia proprio no il governo attuale i temi più importanti sono quelli che non vengono trattati dal governo e infatti tutte queste dichiarazioni sono comunque precedenti l'ultima dichiarazione sullo spread di prima era appunto di gennaio come notava lei perché lì all'epoca lo spread era basso ora non si parla più assolutamente di spread non si parla più per allargare i temi di pensioni e di fornero anzi il ministro Giorgetti invita le persone a rimanere di più al lavoro perché ci servono lavoratori non gli immigrati ma siccome la crisi riguarda ormai tutta Europa e la Germania è ferma si ridiscuteranno le regole europee forse si faranno con la differenza che però se il boom non ci faccio ma non sarei così ottimista ma con la differenza non sarei così ottimista Eliana Como la crisi è una crisi europea la Germania è seduta noi siamo molto più sa chi la pensa come voi cartello 45 Economist cosa dice la Bibbia che uno va si guarda per vedere come va dice attenti perché l'Italia è uno dei paesi più indebitati del blocco il suo governo non si è svegliato sul fatto che i suoi piani di spesa appaiono ora insostenibili una resa dei conti con la realtà è una prospettiva certa l'unica domanda è quanto dramma sia necessario prima qual è il dramma Como Giubilei Mi permetti di ricordare di valore una cosa visto che l'Economist in Inghilterra è cascato dopo 45 giorni un governo che aveva una maggioranza massiccia in Parlamento perché il programma di spesa della signora Truss portava il debito inglese che ha la doppia A quindi si trova anni luce lontano dal nostro lo portava nel baratro e l'hanno fatta cadere ricordiamo che l'eventuale declassamento a spazzatura impedirebbe a determinati fondi e non solo ai fondi di comprare i nostri titoli quindi diventerebbe più difficile avere dei soldi in prestito quindi dovremmo pagarli ancora di più quindi il debito aumenterebbe e quella è il timore dell'avvitamento Como Veloce Giubilei Conte Veloce Pernomonte cui partecipava anche Giorgia Meloni si applicò la peggiore controriforma delle pensioni d'Europa in nome dello spread alle donne aumentò l'età pensionabile di 7 anni in un periodo però abbiamo un boom di occupazione ma quale boom di occupazione ma quale boom di occupazione di lavoro per le donne dal 2011 a 2012 l'antimigliore riforma pensionistica lasciate parlare alla Conte che non ha parlato in campagna elettorale era una delle grandi promesse che è completamente sparita il problema dell'economia aspettate fatela finire poi replicate intanto non è che il problema che pongono le agenzie diretti non è come state andando oggi è come andrete domani oggi ci dicono andate pure bene il problema è che andrete ma attenzione è sempre comune c'è la terza guerra mondiale abbiamo una guerra mondiale a mosaico c'è in Ucraina c'è insomma in Armenia a Azerbaijan c'è a Israele c'è in Africa non è un problema perché non li vogliono prestare solo a noi perché non li vogliono prestare solo a noi posso fare una notazione se la guerra è per tutti perché hanno e si fanno pagare di più li rimettiamo rimettiamo non vorrei aspettate siamo tornati protagonisti anche in Europa soprattutto per quanto riguarda ma perché ci vogliono perché a noi per prestare i soldi ci chiedono il 4,7 di interessi mentre all'Olanda 3,1 perché se la guerra c'è per tutti le posso rispondere perché non c'è alcun allora scusate un secondo la crescita aspettate aspettate a me viene da sorridere a me viene da sorridere perché lo spread sotto il governo Draghi era superiore ai 200 punti oggi siamo a 197 e perché l'economist quando c'era Draghi aveva più di 200 punti le rispondo le rispondo qual è la differenza tra il governo Draghi e quello Meloni che il tema dello spread con questa frequenza nel dibattito mediatico pubblico non si sentiva sa quando Floris dal 2011 cosa accade nel 2011? nel 2011 accade che c'è un governo democraticamente eletto dagli italiani governo Berlusconi di centro-destra che decide di avere una linea economica e anche di politica estera sulla Libia diversa rispetto a quella dell'Unione Europea sul trollo della credibilità del governo Berlusconi che cosa accade un secondo fatemi finire il ragionamento accade che dalla mattina alla sera i titoli di Stato italiani vengono venduti prevalentemente dalle banche straniere dalla Francia e dalla Germania da quelli che ce li hanno quando si diceva aspetta quando si diceva beh però evidentemente c'è stata una volontà politica non un complotto una volontà politica di far cadere un governo democraticamente eletto si veniva etichettati come complottenti ma non si ricorda poi cosa succede di San Idò che Sarkozy pubblica un libro in Francia un mese fa e all'interno di questo libro nero su bianco scrive che c'è stata una volontà politica da parte sua e della Merkel gli stessi due che facevano i risolini in conferenza stampa ci ricordiamo tutti ma tutto il mondo rideva non solo noi allora il punto è che oggi c'è questo disegno vero e c'è questo disegno simile però ma chi più del dottor Davigo si ricorda quegli anni dottor Davigo la credibilità di un politico poi parleremo quella di un magistrato la credibilità di un politico da cosa viene messa in diciamo in crisi e perché 200 diciamo non le chiedo la risposta da economista ma le chiedo la risposta da osservatore da persona che ha vissuto dei momenti molto duri della nostra democrazia perché 200 punti di spread di Meloni pesano più di 200 punti di spread di Mario Draghi e infinitamente di meno di 200 punti di quelli di Silvio Berlusconi io credo che il problema sia che l'Italia ha un debito spaventoso e che in decenni non è mai riuscito a ridurlo è sempre continuato a crescere il che rende l'Italia un paese estremamente fragile perché basta qualunque stormire di fronde perché i risparmiatori si spaventino e non comprino i titoli italiani allora ci sono delle scelte che sono francamente incomprensibili ma non soltanto di questo governo anche di molti governi precedenti e faccio un esempio a seconda degli osservatori che calcolano l'evasione fiscale in Italia c'è un'evasione fiscale che oscilla tra 100 e 200 miliardi di euro l'anno che è una cifra spaventosa che se non avessimo questa evasione fiscale sconosciuta in altri paesi in queste dimensioni non avremmo questo debito pubblico allora quando io sento dire che si fa il condono perché costa di più recuperare le cartelle per poche somme anziché farle anziché condonarle ma la trovo una cosa assurda se uno sale sul treno senza biglietto alla prima stazione successiva lo fanno scendere non è che gli dicono a beh stai lì perché costa di più farti scendere perché sennò smetterebbero tutti di pagare il biglietto però qualcosa si recupera in questo modo voglio dire il problema del debito pubblico ha ragione Davigo infatti è un problema che non è nato con la Meloni non è nato con Draghi ce lo trasciniamo da 50 anni bisognerà probabilmente adesso ridiscutere la situazione di tutta l'Europa perché come dicevo prima la Germania è in crisi e quindi a cascata si porta dietro gli altri paesi e tutto il discorso che abbiamo fatto sullo spread è importante ma ha un valore relativo bisogna ridiscutere con la politica per trovare nuove regole e permettere probabilmente di fare ancora un po' di deficit lo so che può apparire un discorso difficile da fare ma scusa dobbiamo evitare dobbiamo evitare dobbiamo imparare dalla storia quello che è successo dieci anni fa con la Grecia dovrebbe aver insegnato qualcosa per mettere a posto i conti hanno distrutto un popolo e l'hanno affamato e lo hanno rovinato bisogna cercare di rimettere in moto la competitività bisogna fare delle riforme e evitare di doversi far rimettere a posto i carri professoressa di Cesare la Grecia ci sta per superare la Grecia ci ha già superato cioè prestare i soldi ai greci costa meno che prestare a noi professoressa di Cesare e torniamo poi su Davide e arriviamo nello studio tutta la credibilità delle singole persone su quello diciamo dice Giorgia Meloni io non ho distrutto l'immagine di un magistrato era lei che era andata alla manifestazione non si può dire che io sto segnalando qualcosa di strano perché lei è andata in mezzo al pubblico anche noi mandiamo delle immagini prese dal pubblico di quando loro dicevano prendevano posizione politica le rifaccio vedere l'immagine che è stata resa pubblica dal ministro Salvini della giudice che ha bocciato le norme sulla immigrazione e poi lei mi commenta cosa c'è che non va in questo ragionamento cosa c'è che non va ma allora guardi io non so mi viene da pensare alla stasi all'ADDR al controllo servizi segreti comunisti alla sorveglianza io non so su quel molo c'ero anch'io ho manifestato anch'io o anzi addirittura la stasi però è un'altra cosa non facciamo però paragoni stasera le sta sparando l'apartai l'Italia che fa la paragonia non lasciate che problema vi crea se termina il suo ragionamento ma va bene ma non si può sentire che ricorda ma no ma si può sentire perché siamo qua apposta abbassiamo tutto lo studio parlare io penso che in questo paese siamo arrivati a un degrado tale per cui chi ha manifestato allora per i diritti umani va bene perché quella era una manifestazione per i diritti umani cioè per chiedere che quei migranti che erano ostaggio sulla nave scendessero dalla nave mi faccia finire mi faccia finire allora qui c'è il problema qui c'è il problema che secondo me i magistrati sono cittadini io non credo nell'obiettività non ci credo è una parola stratta tutti noi abbiamo una posizione politica come cittadine cittadini siamo chiamati ad avere una posizione politica che lei che la magistrata fosse lì per me non ha non mina in nessun modo la sua il suo ruolo e la sua credibilità dipende poi come fa il magistrato nulla dottor Davigo lei che ne pensa e mi inquieta questo regime di sorveglianza se posso intervenire dottor Davigo lei che ne pensa da dove escono quelle immagini io penso da dove escono quelle immagini non lo so e mi interessa anche poco io penso che sia un errore gravissimo spostare l'attenzione esatto dalla motivazione dei provvedimenti giusto alle persone che hanno pronunciato il provvedimento allora intanto si fa confusione tra imparzialità del magistrato e apoliticità l'imparzialità riguarda i rapporti con le parti del processo punto e per questo è prevista l'astenzione la ricusazione la apoliticità è assicurata da alcune norme costituzionali che prevedono il reclutamento solo mediante concorso e che consentono alla legge di limitare la partecipazione dei magistrati ai partiti politici se si va invece a investigare su quello che pensa il magistrato si apre una strada pericolosissima lei sarebbe andato in quella manifestazione lo lasci concludere io non ci sarei andato perché diventa pericoloso mi dia un flash perché diventa pericoloso e poi da noi partiamo perché diventa pericoloso se si indaga dentro la testa del magistrato perché facciamo un esempio qualche anno fa anzi parecchi anni fa fu presentato un disegno di legge stravagante che per fortuna non fu approvato che prevedeva la possibilità di ricusare il magistrato che avesse tenuto comportamenti o fatto affermazioni discriminanti dal punto di vista politico religioso razziale eccetera ora se una norma di questo genere venisse approvata visto che parliamo di migranti quando arriva un migrante di religione islamica che dicesse io non voglio essere giudicato da un cristiano che cosa gli diciamo piccola pausa allora ci hanno raggiunto nuovi ospiti Benedetta Scuderico portavoce Giovani Verdi Europei Federica Brancaccio presidente Ancia Associazione Nazionale dei Costruttori Edili Don Filippo Martoriello parroco della parrocchia San Domenico di Cusman Raffaello Lupi sta arrivando immagino Flavio Tosi Forza Italia Alessandro Sanzoni buonasera benvenuto Andrea Mancia il direttore dell'opinione Vittoria Morrone attivista del movimento La Base di Cosenza sempre con noi Maurizio Mannoni Antonio Di Bella Matteo Ricci in collegamento c'è Paolo Di Paolo scrittore in libreria con romanzo senza umani per Feltrinelli può passare non si preoccupi se la vedono Laura Gobetti aggiornaci allora sì gli aggiornamenti intanto che la porta aerea americana la Gerald Ford è arrivata nel Mediterraneo orientale le parole di Blinken su questo evento sono che è lì come deterrente non tanto per Hamas quanto per i paesi vicini del Medio Oriente affinché non pensino di poter portare a un'escalation in Medio Oriente di questa situazione ed è arrivato anche il primo aereo carico di munizioni proprio dagli Stati Uniti è atterrato in Israele questo per quanto riguarda ovviamente quello che sta accadendo in Medio Oriente allora Laura noi abbiamo anche un sondaggio però che ci porta sui temi economici siccome in tutta la puntata stiamo cercando di tenere aperti i due fronti cosa dicono i sondaggi e allora cominciamo subito Giovanni con il cartello 1 la domanda è proprio questa cioè che cosa pensa della situazione economica nei prossimi mesi ovviamente il nostro sondaggio Ipsos di Pagnoncelli allora la questione è questa resterà invariata la domanda rispondono sì il 39% degli intervistati peggiorerà invece ce lo crede il 33% degli intervistati migliorerà per il 19% parliamo dei tassi di interesse ne abbiamo parlato molto in trasmissione allora vediamo la domanda proprio su questo il cartello è il numero 2 la spaventa il continuo aumento dei tassi di interesse in Italia è spaventato da questo evento il 51% degli intervistati a fronte di un 25% che dice no ma c'è anche un forte numero di dubbiosi 24% come vedi il cartello numero 3 invece la situazione dei prezzi la domanda è questa se sia migliorata o meno dopo la presentazione del famoso piano anti-inflazione no per il 69% degli intervistati invece si hanno iniziato a notare un piccolo calo dei prezzi l'11% ancora il cartello numero 4 invece una domanda sull'operato del governo se credono che sia in grado di affrontare le tante emergenze sul fronte economico sia interno sia internazionale allora no non mi sembra mi sembra in certo inadeguato lo dice il 58% degli intervistati mi sembra competente ben strutturato invece il 30% allora più in generale qual è il gradimento dei nostri intervistati nei confronti del governo il cartello è il numero 5 del governo Meloni vediamo cosa è successo negli ultimi mesi allora si parte da giugno 2023 con un 52% di gradimento per poi scendere sia a luglio sia a settembre e rimanere stabile col 47 a ottobre 2023 in particolare sulla premier Giorgia Meloni qual è l'indice di gradimento anche qui a partire da giugno 2023 il cartello è il numero 6 allora vedete anche qui c'è esattamente lo stesso andamento quindi l'andamento della premier è uguale a quello del governo 53 si parte a giugno 2023 per poi scendere a luglio 52 settembre 49 anche in questo caso rimanere stabile a ottobre Matteo Ricci cosa sta succedendo? sta succedendo che stanno finendo gli alibi in questo anno abbiamo visto la Meloni in maniera anche spesso abile trovare continuamente degli alibi una volta è colpa dell'Europa una volta è colpa di qualcun altro una volta è colpa dei tassi di interesse e questo in qualche modo gli ha consentito di galleggiare su una situazione economica complicata adesso avremo un autunno difficile le questioni sociali vengono al pettine la crescita sta rallentando dobbiamo mettere a terra il PNRR e quindi adesso entriamo nel merito delle politiche economiche io credo anche che questo anno sia stato molto condizionato dalle politiche economiche precedenti chiunque ha un minimo di conoscenza degli andamenti economici sa che non avvengono nel giro di 15 giorni le conseguenze di una scelta politica economica quindi io credo che avremo un autunno molto difficile nel quale bisogna avere delle priorità la priorità per noi è quella di sostenere il sistema sanitario nazionale lo dicono le regioni italiane che senza 4 miliardi che mancano noi non sosteniamo più il servizio sanitario nazionale tutti i cartelli mi servono e il sostegno ai redditi più bassi che in alcuni casi con ad esempio il salario minimo potrebbe andare incontro anche al tema del lavoro povero del lavoro precario che purtroppo è una parola allora qual è lo scenario poi di cui bisogna preoccuparsi Flavio Tosi un appuntamento c'è l'attesa del giudizio del rating ne abbiamo parlato abbondantemente bene che lei ci spieghi cosa possiamo temere cartello 46 il 20 ottobre quindi a pochi giorni Standard & Poor's si dice se il nostro debito è affidabile o se dobbiamo smettere o se suggerirà ai suoi clienti di smettere di acquistare il nostro debito poi lo dirà il 10 novembre Fitch il 17 novembre lo dirà Moody's cosa dobbiamo temere Tosi dobbiamo fare una manovra prudente perché c'è una situazione difficile la differenza tra governiamo noi in questo momento anziché il centro-sinistra che noi siamo liberisti quindi pensiamo che le poche risorse che ci sono devono essere messe per la crescita invece loro tendenzialmente sono più statalisti e quindi sono anche per mettere la patrimoniale quindi c'è per aumentare la tassazione loro non ci stanno al governo no sto dicendo che la differenza fra noi e loro è questa con noi si può sperare che vada meno peggio non che vada bene non che vada bene abbiamo 2800 miliardi di debito pubblico un PIL di 2000 scarsi un rapporto che è quasi 150 se il debito per fortuna i titoli di Stato non costano tutti più del 4% poi sono stati emessi prima se costassero tutti il 4% sono più di 100 miliardi all'anno per pagare l'interesse sul debito quindi la situazione è brutta non c'è una situazione facile il punto è come la fronti noi dobbiamo affrontarla con tanta prudenza emettendo le risorse per la crescita taglio del culo fiscale e misure solo per la crescita la sanità la sanità è una priorità per voi oppure no la richiesta che il presidente Fedriga a nome di tutte le regioni fa di almeno 4 miliardi è una priorità o no la salute degli italiani per voi è una priorità o viene sempre dopo la sanità è una priorità non lo è il salario minimo per esempio quella è una misura che vedete voi che alla fine forse abbasserà di più i salari anziché aumentarli e che pseudo assistenzialità la situazione è difficile avremo tanti problemi ma sempre meglio che li gestiamo noi piuttosto che li gestisca l'opposizione Antonio Di Bella ci dice il quadro qual è? il quadro generale il quadro generale è difficile basta sentire cosa dice Banca Italia che dice attenzione noi dovremmo diminuire il nostro debito se facciamo così ci possiamo esplorare i rischi e questo lo ha detto prima della crisi in Israele quindi noi siamo già sul filo del rasoio i venti di guerra che fanno già alzare i prezzi del petrolio delle materie prime e che saranno un altro colpo rischiano veramente di appesantire ancora di più il nostro futuro siamo veramente in una situazione difficile Paolo Di Paolo uno scrittore c'è stata un'epoca in cui le frasi e l'abbiamo sentita l'abbiamo recuperata e l'abbiamo comprese molto bene le frasi di Meloni e di Salvini erano nette chiare stentore come si faceva a non andare dietro a delle frasi così semplici adesso quando a Giorgia Meloni si chiede cosa farà del MES pochi giorni fa risponde così io credo che questo dibattito vada aperto a valle di un ragionamento che noi stiamo facendo a 360 gradi particolarmente sul tema della governance senza il quale diventa proprio impossibile anche ragionare di uno strumento che si inserisce in questa dinamica e che va considerato con la dinamica sembra una di sinistra nei film di Verdone prego Paolo Di Paolo linguisticamente rivela semplicemente una difficoltà adesso non voglio essere ingeneroso era proprio non voglio chiamarla supercazzola perché è brutto però diciamo sostanzialmente era un po' quello c'era un avvitamento diciamo lessicale che manifesta una difficoltà non ribadisco non bisogna essere impietosi però è chiaro che siamo in un contesto di tale instabilità di tale incertezza che effettivamente se facciamo lo sforzo di metterci nei panni della Meloni un po' sentiremmo pure noi qualche esitazione nell'essere netti quanto lo si era in campagna elettorale credo che ci sia però uno scarto radicale tra quei toni della campagna elettorale quel lessico molto più preciso forse anche se qualche volta greve e invece il lessico e diciamo così il linguaggio le parole di questi giorni mi sembra di poter dire però che di fronte ai venti di guerra che appunto abbiamo come dire sentito soffiare in questi giorni che si aggiungono alla guerra già in corso in Ucraina da molto l'oggettiva situazione dell'economia è un pezzetto di una polverizzazione complessiva delle certezze cioè quando dico solo questo che quando scendono i consensi si complicano i discorsi e le parole che sta succedendo mancia scudente scendono i consensi non sono tanto d'accordo sull'analisi perché se noi quello è un sondaggio rivediamo rivediamo forse il cartello ma è comunque fatto sul totale della popolazione italiana se prendiamo gli elettori secondo me forse anzi il gradimento del governo facendo la tara fra popolazione totale e numero degli elettori sappiamo quanta stensione c'è in Italia secondo me sono numeri solidi il 47 io ci metterei la firma che sia un buon risultato in dubbio però partirei dal 52 cioè la tendenza è quella governare fa male lo abbiamo visto nella storia dell'inizio ma c'è un dato che da più mi scusi che più preoccupa quello sulla sfiducia nella capacità del governo di affrontare il terro precedente ecco incerto e inadeguato siamo al 60% insomma è una domanda piuttosto bizzarra il governo le sembra in grado di affrontare tante emergenze economiche sul fronte economico interno e internazionale io risponderei no ma ho votato per la Meloni cioè quindi non vedo il nese nel senso che sono le è la complessità sei venuto qua a difenderlo a nessun governo forse è anche lei che l'ha votata però si potrebbe dire vabbè se vuoi fare la battuta sì però io invece penso che la situazione sia così complessa e il fatto che la politica estera si decida a Bruxelles e la politica economica si decida da un'altra parte secondo me la risposta è quella ai Tosi dice noi non crederete in noi ma sono meglio degli altri io e musica e le orecchie dice pure ma fatelo governare a Scuderi comunque saremmo rassuscitati tutti comunque quel sondaggio il limite di quel sondaggio che non è una colpa vostra sono 500 interviste quindi sono un po' pochino non si fida di Ipsos non si fida sono sempre 500 fatte da Ipsos sono un po' pochine magari se ne faceva qualcun altro davanti ad un altro risultato ma noi ci fidiamo di Ipsos sono oggettivamente poche nel 2023 ancora abbiamo il coraggio di dire che le politiche liberiste sono le politiche per la popolazione ancora abbiamo il coraggio di quelle no, quelle comuniste ci vogliono e sono quelle comuniste ci vogliono quelle comuniste ci vogliono ci vogliono quelle comuniste che è stata trovata in Inghilterra perché l'Istras che è stata nominata prima ha applicato proprio delle politiche liberiste e neanche i mercati non hanno mandato a parlare perché non funzionano impoveriscono la popolazione mentre invece il comunismo e tra l'altro lei ma quale comunismo ma di quale comunismo sta parlando se andiamo su comunismo e liberismo blocchiamo lo studio perché verrebbe essere un professore di storia esiste uno strato sociale noi vogliamo tutelare la popolazione perché quello che fanno Laura Gubetti c'è Eric Salerno quelle che fanno ok Eric Salerno è uno dei più importanti corrispondenti da Gerusalemme e dal Medio Oriente e ci dà la lettura di quello che sta succedendo benvenuto intanto una tragedia una tragedia umana che non vorrei nemmeno dover essere qui a parlare di politica però sono d'accordo con Cacciari perché ha detto che per capire come andare avanti cosa fare perché a un certo punto bisogna anche capire bisogna guardare nel passato e non voglio tornare nel passato a cento anni fa voglio tornare nel passato recente quello di Netanyahu per esempio pochi anni fa e di Sharon che era lì un pochino prima di lui il quale aveva deciso che quelli di di svuotare la striscia di Gaza degli ebrei degli israeliani e di chiudere e di chiudere gli insediamenti all'interno della striscia di Gaza ritiro l'esercito ritiro chiudo gli insediamenti dopodiché in qualche modo trattiamo con tutti e stiamo parlando di dopo dopo la firma a Washington degli accordi di Oslo Abou Mazen che non c'era più a Rafat Abou Mazen disse a Sharon allora facciamo una cosa una cosa bellissima l'inizio di un processo che sarebbe Gaza e Jericho prima ai palestinesi benissimo cominciamo lentamente questo processo di cercare una forma per vivere insieme in due stati uno accanto all'altro perfetto Sharon disse no io me ne vado da Gaza con i nostri e lascio a Gaza Hamas e quelli che stanno lì poi decideranno loro io non decido per loro l'idea che poi è stata l'idea non soltanto di Sharon ma prima di Sharon dei servizi e dei governi precedenti era di in qualche modo utilizzare Hamas prima contro l'OLP poi è diventato Sharon ha detto bene a questo punto consegno Gaza ai palestinesi ciò Hamas che prende il sopravento di tutti lì e dall'altra parte indebolisco Abu Mazen perché non può dire di essere stato lui a liberare un territorio palestinese ma è stato Hamas a fare questo discorso dopodiché lui Abu Mazen è rimasto praticamente confinato nella West Bank e teoricamente a Jerusalem MES e sono andati avanti con Netanyahu e tutti gli altri le conseguenze intenzionali delle azioni intenzionali torniamo ben presto a parlarne con Antonio Di Bella ma Don Martoriello allora guardi cosa è successo in due giorni di guerra 49 scusate sì no 52 52 cartello 52 due giorni di guerra e abbiamo avuto questi aumenti il gas è cresciuto il 15% il petrolio del 4% cosa stava succedendo già da prima cartello 49 guardate gli aumenti di bollette e benzina in un anno luce gas 300 euro benzina 228 cartello 48 guardate i cibi come sono aumentati in un anno praticamente più del 40 50 50% cosa sta succedendo nel mondo reale Martoriello Morrone il mondo reale sicuramente vive un grande disagio di fronte a questa situazione economica che in fondo viviamo un pochino tutti quanti perché basta andare al supermercato e al benzinaio e ci rendiamo conto effettivamente che questa è la situazione la cosa che a me personalmente colpisce sentendo le persone che ci vengono a incontrare in parrocchia per chiedere aiuto e che dietro tutto questo sono colpiti dei diritti fondamentali della vita della persona diritto allo studio perché un padre che deve o una madre naturalmente che deve scegliere se sostenere all'istudio un figlio o dargli da mangiare naturalmente comincia ad avere difficoltà a sostenerlo per certi tipi di studio me lo diceva quest'estate un papà per quello che riguardava le ripetizioni scolastiche in vista degli esami di riparazione così anche per il diritto si diceva primare della salute il lavoro tutto questo tocca veramente il quotidiano della nostra vita e quello che mi colpisce e lo registro in parrocchia rispetto al sondaggio che avete fatto che sicuramente c'è questo clima di pessimismo cioè si avverte il timore che le cose non vanno a migliorare Chiara Morrone e Alessandro Sanzoni Allora tanto volevo dire a Tosi che ad un lavoratore che guadagna 5 euro all'ora da contratto nazionale stiamo parlando degli istituti di vigilanza privata stiamo parlando delle multiservizi il salario minimo cambia forse lei non ha mai lavorato a 6 euro contratti scaduti da 8 anni contratti scaduti da 8 anni quindi devi dirlo alla tua parte politica che non ha fatto anni luce dagli italiani voi dite prima gli italiani prima gli italiani ma prima italiani quali? quali italiani? quali? il 5% che detiene la ricchezza dell'80% della popolazione o di tutti gli italiani perché si venga a fare un giro nella provincia di Vibo Valencia vado a farsi un giro a Crotone e vedrà la gira e evidentemente allora ve ne fregate li vedete i poveri e ve ne fregate perché voi i percettori di reddito di cittadinanza i poveri li create voi noi li creiamo io personalmente la vostra parte politica io al massimo con i poveri adesso tocca a Sanzoni a me basta la notizia che Tosi sia arrivata in Calabria non credevo ci fosse mai andare questa cosa sul consenso questo governo ha il brutto vizio di individuare dei capri espiatori che una volta sono i percettori di reddito un'altra volta sono i migranti e poi però non è in grado di mettere in atto degli interventi strutturali per fare dei cambiamenti reali allora aspettate ora arriviamo alla parte costruttiva ma il trattato di Dublino è sempre lì abbassiamo lo studio perché all'immigrazione arriviamo dopo Alessandro Sanzoni che adesso è fatto? sono fatto un'idea che la situazione dopo l'ulteriore crisi che evidentemente stiamo vivendo e lo dimostrava prima il cartello che parlava degli aumenti del petrolio e del gas il petrolio oramai ha ripreso dopo un calo che aveva avuto alla fine di settembre e sta adesso sui 90 dollari al barile Brent può soltanto come dire peggiorare ulteriormente prima si citava la Banca d'Italia e gli avvertimenti che ha fatto il rischio è che nella prossima legge finanziaria le risorse siano ancora di meno e che nonostante il dibattito il battibecco politico in qualche modo tenda a scaricare sull'attuale governo la situazione poi ci si dimentichi che la sanità l'ha tagliata la sinistra o l'ha tagliata il governo problema strutturale la struttura non dipende da Giorgia Meloni c'è un problema strutturale e voglio sottolineare una cosa però Giovanni arriviamo al lupi nell'anadef è come dire esplicitato che in tre anni noi dobbiamo abbassare la nostra spesa in sanità pubblica amministrazione e in generale per tutto quello che ha a che fare con la spesa dello Stato praticamente del 10% al netto dell'inflazione se noi andiamo a vedere i numeri praticamente per raggiungere l'1,5% di avanzo primario dall'1,6% di disavanzo in cui stiamo oggi noi dovremo risparmiare in tre anni 88 miliardi significa un taglio epocale senza precedenti per cui la chiacchierata che ci stiamo facendo adesso su questi argomenti facendo finta di credere che la crescita sia quella segnata nella Nadef perché dovremmo vedere altri ovviamente perché lì era lo 0,8% invece abbiamo saputo al Fondo Monetario Internazionale che è lo 0,7% quindi qui o si fa uno sforzo collettivo per un lampo di genio tutti quanti insieme oppure rimaniamo all'ordinario ministro Lupi Brancaccio aspettate ora arriviamo 100 miliardi di evasione fiscale vengono da alcuni milioni di piccole attività che sono troppo piccole e che fa crede alla favola dei grandi evasori questa la pubblichiamo quindi la evasione fiscale è un'evasione fiscale di massa diffusa tra gli italiani tra noi che dipende dalle piccole attività che sono troppo piccole per essere rigide e quindi applicare le imposte due tre cinque dipendenti sono tantissime e c'è un'inefficienza dell'amministrazione degli uffici tributari che invece di andare lì perdono tempo alle elucubrazioni dei cosiddetti grandi evasori su questioni di lana caprina che ormai non ci sono noi abbiamo una macchina fiscale se lo lasci dire alla paralisi e la riforma che stanno facendo se possibile la sta peggiorando ma ci sarà una volontà politica ma non è una cosa ci sono tanto mila ma se questa devi andare a trovare allora fermi abbassiamo lo studio abbassiamo lo studio professore aspetti scuderi aspetti state dicendo la stessa cosa professore sono sei milioni bisognerebbe abbassiamo tutto lo studio bisognerebbe andarli a cercare e organizzare una macchina dell'elevazione dell'agenzia alle entrate scatenarli sul territorio ma figurati chi lo vota più chi fa una cosa del genere allora dottoressa Brancaccio ce lo spiega un'altra volta aspetti abbiamo un percorso professore la vede lei la vede lei non ha parlato finora prego allora ci dica cosa le viene in mente ma allora noi siamo molto preoccupati ovviamente siete costruttori siamo costruttori sì siamo costruttori siamo molto preoccupati e ovviamente quotidianamente vediamo che i nostri collaboratori i nostri dipendenti i nostri lavoratori sono sempre più in difficoltà prima si diceva non arrivano a fine mese adesso non arrivano al 20 al 15 e al 10 del mese ma per intervenire e bisogna intervenire bisogna anche far sì che il sistema economico le imprese producano possano crescere e marginalizzano questa bruttissima parola che vuol dire marginalizzano guadagnano fanno utili fanno utili che possono che devono rinvestire perché il sistema imprenditoriale sano reinveste nella propria azienda e ci guadagna e certo non è che fanno San Francesco e Santa Chiara creano ricchezza per sé e per il paese in questo paese la probabilità non necessariamente entrambi e dice Andrea Mancia non è un problema Mancia Mannoni Ricci prego finché noi ci scontriamo con una parte politica per cui il profitto è peccato Hamas è stata costruita lasciatelo parlare ma perché non vi lasciate parlare prego ma la devi smettere dovete smettere di fare le caricature di quello che hanno detto hanno espresso un'opinione ma smettetela ma ti vedi in faccia ma di che ma che va a chi fa ma che va a chi fa ma che va a chi fa il problema è che è liberismo una cosa che in Italia in Italia non si è mai vista una traccia di liberismo abbassiamo lo studio perché è un livello a cui non vogliamo arrivare salutiamo Laura Gobetti che è sempre là devi finire se non dici siete la macchietta di voi stessi perché non smettete di fare le caricature e tu hai detto siete la caricatura allora non ricostruiamo dimentichiamoci di tutto torniamo a dire quello che voleva dire quindi lei dice che Netanyahu ha creato Hamas nottetempo che il liberismo ha creato il debito pubblico in Italia quando in Italia dirsi liberisti è una cosa per cui vieni picchiato al liceo e all'università ho appena scoperto che prima Ricci dice quello che succede adesso nell'economia italiana è stato creato dal governo precedente perché chiunque abbia un minimo di senso sa che ci vuole almeno un anno ma io dopo un mese che governava la Meloni sentivo dirvi che la Meloni aveva già portato l'Italia allo sfacere allora fate pace col cervello fate pace col cervello intanto la devi smettere di usare un linguaggio offensivo nei confronti di chi parla pace e cervello io capisco di pace e cervello stiamo parlando di concetti importanti aspettate fermiamo lo studio allora dovete abituarvi a parlare tranquillamente pure pensando cose completamente insieme calmi non vi riprendete sulle singole parole dateci i concetti sindaco Ricci cosa vuole dire? voglio dire che sull'evasione fiscale a me basterebbe che la smettessero di fare i condoni ad esempio perché sarebbe già un bel messaggio perché da quando è arrivato questo governo non so quanti condoni sono stati fatti adesso in questa legge di bilancio si vuole fare un altro condono se si vuole combattere l'evasione è vero che è complicato combattere l'evasione in Italia per la situazione per il tessuto per la frammentazione bene ma se si continua a dare il messaggio che chi paga le tasse è un fesso perché tanto ogni tanto arriva un governo che fa un condono noi l'evasione fiscale non la combatteremo mai allora Maurizio Mannoni e poi Antonio Di Bella qual è il quadro d'insieme? Siccome Giovanni so che a te ogni tanto mi piace ricondurre farebbe almeno siamo tutti stanchi alla questione di fondo nel senso questo governo allora di fronte a questa situazione che cosa sta facendo? che se noi siamo un paese messo male lo sappiamo anche prima del governo noi no lo sappiamo il debito pubblico è enorme dice Sanzoni guardate abituatevi perché le cose buttano male è solo un inizio sì no voglio dire però adesso diciamo cominciano adesso appunto attendiamo il giudizio delle agenzie di rating ma ha già i grandi istituti internazionali insomma un po' di scetticismo sulla sulla nostra economia lo stanno manifestando il problema è che diciamo per quello prima sottolineavo quel passaggio del sondaggio che il governo Meloni non ci aveva prefigurato questa situazione in campagna elettorale soprattutto e poi quando si sono insediati ma diciamo nulla di quello che avevano promesso è stato non dico fatto ma impostato ci sono addirittura delle povere della povera gente in Romagna che sta aspettando ancora i risarcimenti promessi non lo dimentichiamo mai questi che non hanno ancora visto parliamone di questa cosa perché il problema nasce nel momento in cui il governo si rifiuta di dare ai responsabili del disastro i soldi per risolvere il disastro mi sembrerebbe anche una cosa questa mi sembra chi era l'assessore all'ambiente della giunta Bonacini scusate che significa questa è proprio una teoria è una teoria cioè la realtà un commissario niente sono stati o no promessi a quella gente quei soldi quando è andata lì con i rivali di Giorgio Meloni stai parlando stai parlando piega il cambiamento climatico stai parlando Paolo di Paolo scusa sulle persone che si è allo studio dice ma non il cambiamento climatico Sanzoni ha detto guardate qua il quadro è brutto mettiamoci d'accordo perché questi lo stesso piano triennale presentato dal governo che implica dei grossi sacrifici dovrà essere rivisto sulla base non solo di quello che sta succedendo fuori il racconto della guerra ma anche sulla base della crescita cioè sono numeri che saranno ancora più impegnativi quindi diamoci una calmata non date la colpa al governo Meloni perché siamo appena arrivati diceva pure Mancia dice Tosi meglio che la gestiamo noi questa fase che l'alternativa dice Manoni però ci avevate detto altre cose cosa sta succedendo nell'opinione degli italiani Paolo Di Paolo e poi Antonio Di Bella se ci guarda col suo sguardo da fuori sta succedendo che uno guarda al suo quotidiano e vede che appunto torno a quello che dicevo prima saltano tante certezze non c'è soltanto questo clima di instabilità complessiva c'è l'idea che appunto vai al supermercato vai a fare benzina e le cose effettivamente non ti tornano come diceva Manoni in studio è ovvio che nelle promesse elettorali c'è sempre qualcosa di esuberante però quando cogli una sproporzione così radicale questo naturalmente un po' ti fa effetto soprattutto quando io ho davanti un libro che parla del Cinquecento perché in un pezzo di romanzo c'è quello le lagnanze dei contemporanei quando ti accorgi che una libra di carne costa quanto un montone intero evidentemente questo è il Cinquecento quindi l'altro ieri effettivamente senti che c'è qualcosa che non va il che naturalmente poi produce nella classe politica una sorta di scaricabarile all'indietro fino forse al Cinquecento a questo punto però richiede anche una certa responsabilità sia linguistica che etica cioè mi piacerebbe che invece che intortarsi tra le parole poi il governo diciamo parlasse in un modo un po' più aperto magari manifestando anche delle difficoltà ma dando conto di quello che non è riuscito a fare e a impostare perché per l'appunto se guardiamo a quello che abbiamo ascoltato durante la campagna elettorale c'è qualcosa che oggettivamente non torna Antonio Di Bella gli altri stanno come noi gli altri paesi in Europa o fuori dall'Europa dipende in Europa fuori dall'Europa i paesi non stanno con i nostri numeri che sono tra i peggiori di tutti ahimè non hanno i nostri debiti non hanno il nostro debito però io sono stato a Parigi e a New York prendo un esempio da Parigi Manuel Valls disse io ho fatto promesse in campagna elettorale però ho un obbligo un obbligo di verità ecco io credo che questo obbligo di verità che in parte il governo basta pensare a qualche dice Giorgetti ogni giorno sta onorando bisogna fare un ulteriore passo io credo che la sincerità e la verità in una situazione difficile siano comunque premianti rispetto alle sparate e l'altro dall'America Biden che ha detto quando viene accusato di essere comunista o socialista anche lì io in realtà amo il capitalismo lo difendo però chi fa i soldi deve pagarlo e se non paga le tasse va in galera Laura Gobetti dacci gli ultimi aggiornamenti sì allora aggiornamenti sul fronte diplomatico gli Stati Uniti stanno promuovendo le relazioni con il Qatar affinché intervenga nel rilascio degli ostaggi e poi Blinken arriverà giovedì in Israele invece sul fronte proprio degli scontri le forze di difesa israeliane dicono di aver colpito l'abitazione del portavoce militare di Hamas si tratta di Obeida non è ancora però certo che fosse presente quando è stata colpita la sua abitazione quindi su questo non si hanno notizie certe il discorso di Biden ci sono delle reazioni degli altri paesi o ci sono stati dei commenti allora per ora nessuna reazione a parte ovviamente quella di Netanyahu che vi abbiamo anche riferito ha detto che chiaramente quello che è successo in Israele in questi giorni è di una ferocia incredibile che non si vedeva dai tempi dell'olocausto queste sono state le reazioni e poi quella di Zelensky che ha detto probabilmente dietro quanto accaduto c'è anche in qualche modo la mano russa e teme che questo sposti l'attenzione ovviamente dalla guerra in Ucraina su questo però è arrivata anche l'assicurazione americana subito è stato detto l'ha detto lo stesso Biden ma anche il portavoce americano abbiamo risorse per finanziare entrambi i fronti saremo ovviamente al fianco di tutti grazie Laura diamo il benvenuto Aldo Cazzullo buonasera giornalista e scrittore lo conosciamo tutti domani mercoledì riparte la seconda stagione del suo programma una giornata particolare in prima serata qui sulla 7 con quale giornata particolare cominciamo? 28 aprile 1945 la morte del Duce la cattura di Benito Mussolini la fucilazione e poi l'esposizione del corpo a Piazzale Loreto una tragedia italiana ancora molti misteri da risolvere ma nello stesso tempo la fine della guerra e poi il trafugamento del corpo del Duce che viene nascosto cosa che anch'io Giovanni non sapevo nella Certosa di Pavia uno dei posti più belli d'Italia perché poi il pretesto è anche raccontiamo la giornata di storia ma anche un modo di far vedere luoghi meravigliosi il lago di Garda il lago di Como Milano la Certosa di Pavia una grande tragedia italiana che si consuma in posti di commuovente bellezza Sì, è stato uno dei motivi anche del grande successo della prima stagione questa fotografia questa capacità di mostrare il nostro paese sono otto puntate momenti cruciali della storia del nostro paese una è dedicata alla battaglia di Ponte Milvio tra l'altro ne avevamo parlato da poco con il tuo libro quando eravamo i padroni del mondo Sì, perché noi siamo abituati a pensare gli imperatori romani come i persecutori dei cristiani e alcuni lo furono da Nerone a Diocleziano che martirizzò Sant'Agnese San Gennaro però se oggi l'Occidente è cristiano se il Papa è in Italia se noi preghiamo Gesù è perché Roma diventò cristiana e noi racconteremo ora per ora questa giornata il 28 ottobre tra l'altro questa giornata in cui Costantino secondo la tradizione ha un sogno sogna un angelo che gli mostra la croce in questo segno vincerai e lui fa tracciare la croce sugli scudi dei suoi uomini sconfigge Massenzio e l'impero diventa cristiano e la storia della donna sarà la storia di Sant'Elena la mamma di Costantino che fa il primo pellegrinaggio della storia e va a Gerusalemme ritrova la vera croce la croce cui secondo la tradizione fu inchiodato Gesù la porta a Roma il figlio fa costruire la basilica di Santa Croce in Gerusalemme insomma nasce la storia del cristianesimo poi c'è Cristoforo Colombo per me uno dei più grandi uomini che siano mai esistiti ecco questa idea che bisogna battere la statua di Cristoforo Colombo è una cosa che non riesco a sopportare non possiamo attribuire a lui la colpa di crimini che altri hanno commesso tra l'altro siamo stati per girare la puntata oltre che a Genova in Andalusia alla Lambra di Granada la Chiralda la cattedrale di Siviglia dove è sepolto Colombo abbiamo potuto girare per la prima volta per una tv italiana anche sulla tomba di Cristoforo Colombo e poi Palos il porto da cui partirono le caravelle e anche gli spagnoli si sono rassegnati al fatto che Cristoforo Colombo sia italiano sia genovese ma la cosa che più mi affascina che quest'uomo all'apparenza folle vuole partire siccome sa che la terra è rotonda cosa che ancora adesso qualcuno nega lo capì prima di molti dei nostri coetane lui vuole partire verso occidente per arrivare a oriente e i saggi i soloni dicevano no non è possibile non puoi farcela e il bello è che avevano ragione loro perché andando verso occidente prima di arrivare alla prima isola che avrebbe incontrato il Giappone sono 22 mila chilometri e con quei tre gusci di noce che mostreremo nella trasmissione non ce l'avrebbe mai fatta per sua fortuna in mezzo c'era l'America perché la fortuna aiuta agli audaci appunto poi ci sono le donne Anita Garibaldi Caterina De Medici raccontiamo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia andando anche a Caprera sulla sua tomba e andando anche nelle paludi attorno a Comacchio dove Anita Garibaldi nella tentativa disperata di raggiungere Venezia in fuga da Roma Roma era caduta Garibaldi tenta di raggiungere Venezia che ancora resiste e Anita muore al suo fianco lui continuerà ancora ad amarla per tutta la vita e lì io voglio cercare di difendere Garibaldi perché oggi Garibaldi non è di moda Giovanni perché i nordisti dicono noi saremmo felici come svifera se Garibaldi non avesse unito l'Italia i sudisti dicono no, noi saremmo liberi felici se Garibaldi non ci avesse invaso come dire la colpa dei nostri guai è sempre di altri italiani e non possiamo farci niente noi siamo per Garibaldi e cercheremo di dimostrare e ci siamo formati negli anni Ottanta all'epoca andava di moda e dove ci porterai in altri posti in Italia? beh sì ad esempio per raccontare la giornata di Dante all'Inferno perché Dante sta all'Inferno un giorno o poco più in cui incontra Paolo Francesca e andremo nel castello dove Francesca fu assassinata dal marito geloso incontra il conto Ugolino e andremo a Pisa nella torre in cui il conto Ugolino fu prigioniero che non è la torre di Pisa è un'altra ma vedremo anche la torre di Pisa naturalmente andiamo a Firenze andiamo a Ravenna sulla tomba di Dante e poi anche a Urvieto dove c'è una cappella meravigliosa affrescata da Luca Signorelli con affreschi della resurrezione del giudizio universale che sono ispirati a Dante mentre a Firenze andremo nel Battistero che adesso è chiuso per restauri ma siamo riusciti a sedire sui ponteggi quindi mostreremo i mosaici meravigliosi che invece ispirarono Dante perché sono mosaici ancora più antichi della Divina Commedia con l'Inferno il Diavolo i dannati e un altro luogo cui sono molto affezionato è la Basilica di Arezzo dove Piero della Francesca dipinse la storia della vera croce di cui parlavamo prima ti ricordi Giovanni il paziente inglese quella scena in cui c'è il Sikh l'indiano col turbante che porta Juliette Binoche l'infermiera canadese di cui è innamorato in questa chiesa toscana buia, vuota la imbraga con le corde la tira su lei ha una torcia in mano e può vedere queste fresche bellissime occhi negli occhi graffa i droni le faremo vedere anche agli spettatori tra cui il primo grande notturno nella storia della pittura il sogno di Costantino che sogna la croce e in quel segno vincerà tutto torna Aldo Cazzullo una giornata particolare da domani prima serata sulla sette in bocca al lugo buon lavoro Antonio Talia giornalista autore di un libro in cui si discute molto la stagione delle spie indagine sugli agenti russi in Italia per minimum fax allora un'indagine sugli agenti russi in Italia cosa ha scoperto? ma intanto che l'intelligence e il mondo delle spie sono sempre il riflesso della politica e quindi si va a caccia delle spie di una potenza straniera oppure si decide di evitarlo in base al momento politico da qui poi ho scoperto tutta una serie di storie che sono iniziate più o meno nel 2016 e che continuano ci sono alcuni casi noti altri no certo ce n'è uno in particolare che forse non è ancora così noto ma che secondo me dà un po' la spia della politica di quel tempo nel 2019 l'America chiede l'arresto di un certo Alexander Korshinov che si presentava come uomo d'affari in realtà era un tenente colonnello dell'FS Bay i servizi segreti russi era riuscito a sottrarre dei segreti militari a doppio uso civile e militare attraverso l'Italia che appartenevano alla General Electric Aviation agli americani ovviamente gli americani chiedono l'estradizione e a questo punto la Russia deve inventarsi uno strategem non può chiedere la restituzione perché non è un agente diplomatico e quindi i russi dicono restituitola a noi perché ha truffato un'azienda è un comune truffatore non è una spia non è un lato di segreti industriali e a quel punto cosa succede? che la palla passa al governo ci sono due richieste di estradizione in concorrenza il governo era nel periodo delicatissimo di passaggio tra il conte 1 e il conte 2 e bisogna decidere se restituirlo all'America o alla Russia Alexander Korshinov viene restituito alla Russia nonostante le accuse provenissero dal tribunale Basmanni che è un tribunale di Mosca che è noto per avallare le richieste le fonti è praticamente un mondo da film di spionaggio sì ho cercato di esplorare delle fonti sia diplomatiche sia ovviamente con una conoscenza diretta del mondo quindi funzionari che bazzicano quel mondo che sono interni in quel mondo cercando anche di non farmi come dire deviare perché tante volte le loro verità sono un po' diverse da quello che poi appare credo che sia interessante vedere come anche nell'era della sorveglianza elettronica quando pensiamo che tutto quanto passi per il telefono alla fine molto spesso queste storie si dicono a che cosa a due persone che stanno gestendo i segreti si incontrano in un posto stabilito e passano la stagione delle spie Antonio Taglia in bocca al lupo e complimenti del suo lavoro e noi andiamo da Laura Gombetti e giornali di domani la guerra in Isere naturalmente in quasi tutte le prime pagine dei quotidiani partiamo da Repubblica che titola la strage dei bambini più o meno lo stesso titolo sul corriere i bambini e l'orrore neonati decapitati 40 uccisi nei kibbutz e poi ancora raggi su Ashkalon sul fatto quotidiano invece un piccolo retroscena Netanyahu colpevole ha foraggiato Hamas l'intervista all'ex capo dei servizi segreti di Shin Bet sordo Netanyahu gli appelli degli 007 sul manifesto invece l'orrore del terrorismo diventa orrorismo in questo neonologismo sempre per la strage dei bambini di cui vi abbiamo detto prima andiamo invece sul giornale cominciamo a parlare delle conseguenze di questa guerra l'arme Eni con la guerra gas a rischio Descalzi dice sarà più difficile dire addio alle forniture di mosca e intanto i prezzi aumentano del 5% chiudiamo con il sole 24 ore che invece apre sulla manovra che è in arrivo Giorgetti in manovra tagli forti un po' su tutti i fronti e poi soprattutto se dovessero peggiorare le situazioni la situazione i saldi saranno peggiori e il controllo sarà comunque ferreo e ineludibile grazie Laura non resta che ricordare l'associazione Sister Island che offre un luogo sicuro istruzione assistenza medica ai bambini in età prescolare di Zanzibar potete sostenere l'associazione attraverso l'Iban in sovraimpressione che ritroverete naturalmente anche nel sito ci vediamo martedì alle